Ma se cerchi in due, in tre o in quattro... Ma se triglio su Fortnite! Eh lo so, ma infatti io gli ho detto, c'hai spazio, cioè riesci a venire fino alle dieci a letto e non mi ha cagato. Eh vabbè. Hai fatto l'aggiornamento, Maxi? Ok. In modo rispondi. Certo, non ho la finestra. Abbiamo la finestra. Ora. Aprivi sto cazzo! No, non mi dici! Questa, ragazzi, sarà una live strana. Ci sarà una live chiacchiericcia e gameplay. Sì, ho spazio, Panta. Però devo aspettare un attimo per vedere se ci rispondono. Madonna santa, non ho più l'udito. Ah, avevo capito, Madonna... Eccomi, Frost, so derivato. Ciao, Killer. Ciao, Bomberino. Ciao, Gabri. Bella, bella, bella per te. Ma no, cosa, ma no? Merda. Eh, però è uscita soltanto di parte, non è uscita dal gioco. Quindi forse, in teoria, ciao scacco. Quindi, in teoria, forse, ciccia. Vabbè. Ma lo invidiamo? Chi? Tu sai chi. Panta? No. Quello di prima. Ah, eh, non so. Ah, eh, non so. Una live chiacchiericcia senza guerra civile. Che diuzia è mai questa. No, ma no. Ecco, appunto. No, nel senso, è una live normale. Solo che si parla un po' di più, diciamo. Cioè, nel senso, ci saranno dei tempi morti. Eccasplosato dal gioco. Se mi arriva un audio con una bestemmia della luna, sapete che cosa è successo. No, in teoria, poi, se Robby mi dovesse rispondere... Robo panza. No, non Robby, Robo panza, Alibi. Sì, non so. Se ci fa la cortesia di venire dopo, mi deve rispondere. Ciao, Scini. E se, e se, Max, andiamo a fare classificata in due, e se? Ma manco se me lo chiedi con 50 euro in mano. Ma come no? Ciao, Simo. Ciao, bello. Luna, bestemmia, please. Non ho capito. Eh? Che deve fare, Trilli, non ho capito. All'allenamento di FIFA Pro Club, Esle. Ma sono su Fortnite. Sì, ma dopo, alle 10, c'è l'allenamento. Eh, vabbè, potremmo. Hai capito? Se è successo adesso. Ah, deve già iniziare ad entrare, perfetto. Allora, vediamo un po'. Andiamo su Instagram. Allora, grazie a te. Ragazzi, no. Prova a invitar il raid, vediamo se entro. Vediamo se entro. Ah. Perché c'è il raid online. Ma lo so. Ciao, Mauri. Todo, todo, todo. E da quando Frost arrede tra gli amici? Todo. Si va avanti. Eh, vabbè. Figge la barcata. La Frost, vini al Don Sabato che danni diplomi ai maturanti 2016-2017. Eh, ma sabato sono dalla luna. Sono dalla luna. Parto domani. Bella per la madre Frost. C'è su santo. Allora, Dio bananoso. Domani verifica sui primi 12 articoli della Costituzione della Prima Guerra Mondiale. Di cui quest'ultima non so molto. I articoli della Costituzione italiana. Allora. Ma è un pisello questo silenziatore. Baccio, no, non me li ricordo. Ecco, appunto. Come va? Si tira avanti, killer. Si tira avanti. Allora. Sweet Binius, il primo iscritto dopo non so quanto. Ciao, benvenuto. Cristo, grazie. Adesso mi disiscrivo e mi riscrivo. Che dici? Stronzo. Te stavo a dire. No, perché ci stanno tirando giù gli iscritti a botte di 200-100. Quindi, cioè. Allora. Voi, per quelli che c'eravate, ovviamente. Per cui sono stati per God of War su Twitch. Abbiamo completato il gioco. È stata... Ciao, Jesse. Buona serata. È stato veramente figo. È stato veramente bellissimo. Ora c'è un piccolo problema. A parte l'eco di Maxi, leggermente. Eh, scusi. Mi sta chiamando la luna, un secondo. Non mi è più chiare, no. Non mi è più chiare. La luna è ora online. Senti l'eco? Sì, mi sento. Ma non è vero. L'eco non si sente in live. Ok. Facciamo tutti i live, vaffanculo. Sono al telefono con la luna che gli sta saltando la connessione. Ciao ragazzi di R6 Italian. Ragazzi, siete voi per giocare, ragazzi di Rainbow? I miei ragazzi ci sono, che ho bisogno di loro. Ma è strabiliante. Hai fatto la missione della Valkyrie? Eh, allora. Stavo parlando. Perchè la luna mi chiamasse. Mentre lei fa lo speed test, tutto in live. Allora, stavo a dire che ho finito God of War. È stato bellissimo. Tutto stupendo. Solo che adesso ho un problema. Sono bloccato. Le Valkyrie sono troppo difficili. Nifelheim è un casino in terra. Sì. Le Nifelheim è un casino in terra. La Valkyria a Musfelim. Perché alla fine, ragazzi, sono riuscito a fare tutte le sfide. È un dito nel culo. Sono fermo. Cioè, devo fare avanti e indietro per Nifelheim. Per fare gli echi nebbiosi e ciccia. Sta bestemmiando forte la luna. Cuore, dobbiamo andare a mangiare una pizza. Marco è giù. Ad aspettarmi mai che io sto... Ho letto, mi sto lavorando i denti. Mi sto lavando. Va bene, ragazzi. Allora, buona serata. Buona serata. Buona pizza. Vi auguro una buona banana. Vado a tuffarmi una vasca. Vi ascolterò. Ma prego Dio di non bestembiate. No, tranquillo. Ah, Trilly ci ha chiccato amorevolmente per fare ESL in FIFA. Vabbè, intanto io metto giù alla luna e ci risentiamo in live. Perfetto. Ora, andiamo a vedere se Alibi mi ha risposto. Questo qua ride. Maxi Stef mi ha inviato un video. Reproviamo. Ah, sì, quello di God of War l'ho già visto. Eh, è troppo bello, l'ho già visto, non posso riguardare. Ok, allora, vedete, facciamo due chiacchiere nel mentre, aspettiamo la luna. Ben bene. C'è la mappa, bella. Ce l'ha stata, bellissima. Guardi Tom Clancy. Ha stata una bella. Ma non dove morire. Vabbè, quello lì, quello lì, poverino, ha avuto la sfiga della vita. Ciao, Pantino, adesso ti invitiamo. Guarda il gruppo, ah, ah, ah. È il video mio. Ah, ok. Ma ragazzi, ma voi l'avete visto? Come cazzo è il gioco, porco? Ragazzi, ma l'avete visto più che altro voi? Kazza versione Cuphead. Cioè, ragazzi, questo è Kazza versione Cuphead. Guardatelo. Aspetta che devo abbassare la curiosità. Questo qua, ragazzi, è Kazza versione Cuphead. Ma non si vede, puttana Eva. Luna, tu non l'hai visto quel video? Allora. Quanto c'è rimasto stronzo il tipo? Sì, sì, la luna scippa vecchi. Sì, sì, sì. Sì, sì, scippi vecchi. Sì. Allora, come potete vedere, io ho di nuovo le mimetiche fighe, perché me le ha ripassate astro. Solo che dovrò dirgli addio. Dove vi ridete, basta! Vi, vi, dovrò dire... La straduona, bella, ma dove porca la mamma lava la banana è il gioco. Stavo a dir, che devo dirgli addio a ste mimetiche di Pro League, perché o scelgo gli zombie, o scelgo le mimetiche. E secondo voi dei due cosa scelgo? Esatto. La fregna. Quindi... Madonna, sto collassando. Oddio mio. Ah, è vero. No! Adesso luna si incazza leggermente assai, 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 assai. Io direi di fare una libera intanto con la luna che puoi sapere se sta... No, insomma, tu lo conosci di Young, signorino? Penso che lo sia sentito. Ecco la luna, signori, attenzione. Sentiamo. Pronto? Pronto. Perché ti dà problemi qua da quando hai messo il cordless? Frost, ti sfido. Perfetto, allora ti aspettiamo che cambi il cordless, va bene? Va bene. Ma sono in live, luna. Vabbè, allora, ti metti in viva voce, così siamo in tre. Perfetto, ora siamo in viva voce con la luna. Ok? Che bello. Quando Fortnite passerà di nuovo, Rainbow torna vivo. Non penso proprio. Cioè, penso che... Allora, la situazione... Maxi, ti prego, signorino, no. Ecco, la luna è cresciata dal party. Allora... E' già cresciata da boe. Ecco, appunto. Secondo... Ciao, Joseph Stalin. Io... Scusa, Joseph. Joseph Stalin, scusa. Compagno, la luna sta tornando. Frost, ti sfido. Base di Erfurt. Simulazione. Realistico. Coltello no gadget. E Maxi, lo facciamo? Così mi vengono gli infatti per me. Eh, che cosa? Mi è morto il senso. Cosa vuoi? E' realistico o solo coltelli? Io contro di te. Ma che io contro di te? Ne siamo assieme. Buonasera, John Torres. Maxi. Ma tu sei faccio solo coltelli? E che so, la madonna... Vai, solo coltelli. Bravissimo, l'ho dal comandante. Ma siamo in difesa, Ostia. Dovevamo essere in attacco. Vabbè, dai, proviamoci in difesa. Allora prendo che avere. Stiamo facendo... Oregon realistico solo coltelli. Aspetta, mi sto preparando più. Eh, ma tu avevi... Avevi straccato. Va bene, ok. Ci vediamo. Diamo in live. Ok. Ecco, il fotti ti dà il telefono. Si è smesso. Uscite. Adesso uscite. Venite a prendermi e lo faccio anch'io. Per il dinamitardo uno si fa rincorrere e l'altro a coltella da dietro. Oh, certo, perché è semplice da fare. Che bella domanda. Che bella cosa. Perché vincere, vinceremo? Ma dobbiamo prendere la luna. Posso uccidere? Aspetta, non mi usci... Non mi uccidere. Prima ammazziamo uno. Aspetta a coltello o muoi? No, non muoio. Vedi? È ambiguo. Porco due. È ambiguo sto coglione. Eh, ma infatti stiamo arrivando. Maxi ha chillato malamente. Oggi me l'hanno tirata. Oggi me l'hanno tirata. E sono bella. Bene. Allora. È stato molto veloce, molto divertente. E adesso, visto che Dio santo se Alibi mi rispondesse. Poi quando si rivedrà la live. A chi cazzo devo invitare? Trilli non mi risponde. Ma Trilli è una merda. Cosa sta succedendo? Ah, ho provato... Vabbè. Che sta succedendo? Non vuoi non rispondermi. Oddio. Zitti tutti, ragazzi. Zitti tutti. Felicità. Ragazzi. Ragazzi. Zitti. Ragazzi. Zitti. Io pensavo un bicchiere di vino. Però va bene. Cosa per la felicità? No, che palle. No. E cosa? Mi sentite adesso? Ragazzi, non ho più neanche un otto. Cosa cazzo senta il vino? Un attimo, ragazzi. Ho toccato male. Crash? Crash. Vabbè, felicità. Uscita audio. Cazzo? Perché sono molto più discusate? Voi mi sentite in live, vero? Perfetto. Adesso io provo a rientrare. Perché non mi va? Non ti sento. Stai esplodendo tutto. Tu un attimo. Luna, però non puoi chiamarmi in tre secondi. Dimmi. Sono qui. Eh, ma dai. Buongiorno. Lo so. Io sto risolvendo un problema più grosso. Eh, mi sono andato a puttane le aste. Aspetta un attimo. Sei in viva voce. Non dirmi inchiate. Perfetto. Perfetto. Aspetta che io qua devo risolvere. Che cazzo è successo? Sta tornando in par. Eh, Maximi. Vabbè, la luna sta tornando in par. Forse riusciremo a giocare questa sera, ragazzi. Devo vedere più che altro cos'è che... No. Cosa cazzo è successo, Aleastro? Dio bono. Un attimo. Arrivo, Mauro, in un secondo. Allora, audio. Forse i dispositivi. Audio. Ma vaffanculo. Ok, perfetto. Adesso mi sentono. Io non so che cazzo è successo, ragazzi. Sinceramente. Ok, perfetto. Mi sentite? Ecco, che ti ho detto. Perfetto. Allora. Frost, lo sapevi che i balli non ha più la Claymore? Sì, lo so. Un'altra volta. Venga, ma... No, vi prego. Alvaldevi. Iban non ha la Claymore. Non ha la Claymore, Iban, no, no. Ma, ma, ma... No, andiamo... Se la luna mi chiama di nuovo lancio il telefono fuori dalla finestra, ve lo dico. Che gioco di merda, ma non mi posso togliere la Claymore a Iban. Buonsoir. Ti sono fottute le astro, mi sono fottute. Ma, è Maxi? È Maxi. Sì, no, sì, Maxi. Andiamo in... Fa una libera intanto. Tanto la luna cresce ogni 3x2. Ok. Allora. Salve. Niente, 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 niente. No, non mi riesce da un po' tutte le astro. Ciao, Frost, come stai? Solite domande. Cosa? Mi ha bannato. Come ti ha bannato? C'è scritto che sei stato temporaneamente bannato. Ma nel gioco? Eh? Levi. No, perché è successo anche 3 di l'altro giorno. No, no, ma non ero arrabbiato, Mauri, che stavo scasinando allora per quello. Ciao, Ulde. Ciao, Frost. Ciao, Ulde. Ciao, Tom. Ok. Eh, no, non ce la fa la luna. La luna sta tirando di quelle madonne, ragazzi. Che... Come va la vita? Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Avete presente Giumbodrillo? Ecco, io sono Giumbodrillo. Mi faccio schifo. E lo so. Minchia, o luna ce la fai? No, non ce la faccio. Tornano i menù, Maxi, invita la luna. Già l'ho fatto, sono io. Frost, martella il dinamitardo da dietro. No, luna non ti preoccupare. Eh, sì, adesso ci proviamo. Maxi, corri nel gulag per aver ucciso Frost subito. Eh, adesso ti tocca correre nel gulag. Arrivo, ti stare avviando il gioco. Eh, tanto noi siamo qua che parliamo. Ma vi stavo dicendo, ragazze, vabbè, siamo a 43, comunque. La 100 mega porta sfiga, secondo me. Grazie mille, Ulde. Luna, dimmi che lo senti anche tu, la gare. No. Mi senti, la gare? Tipo, ti sento a pezzi. Aspetta, aspetta. No, io no. Aspetta. Io la luna la sento bene. Posso, non sento male. Cioè, io non ho problemi di connessione. Bla. 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 Minchia, c'ho il volume al massimo, non è che posso fare tanto. Ma non è volume. Eh, vedi, lei mi sente benissimo. Ah, sì, il problema è tuo. Stavo dicendo. Ma non è vero, perché a te li sento bene. Che in teoria... Cascio! Non sento la luna, come non senti la luna? What the fuck? Perché non è mai stata nel party. No, la luna c'è. Ci sono. Sento frost robotico? No, dai. Vedi? Vedi? No, dai, ma che palle. Prova un attimo la live, luna. Esci e rientra dal... No, esci dal party e rientra nel party. Grazie al cazzo, io sento tutto bene. Ma ma allora siete stronzi voi, profetto. Allora, se mi lasciano finire, stavo dicendo che per chi fa... Vabbè, stavo dicendo. Troll, tu stronzo. Pure io sento bene. Frost non ha la voce robotica. Grazie Costa. Anche io sento tutto bene. Grazie ragazzi, è semplicemente Fanta che è uno stronzo. Eh, ma Fanta non è più top donator da un culo di tempo. Ragazzi, figa, mi ha donato un rene ormai, cioè, basta. Allora, stavo dicendo, se mi fanno finire, che ho iniziato sta collaborazione. Abbiamo iniziato la collaborazione con Alibi per il doppiaggio. Quindi andatevi a vedere i doppiaggi, se non siete andati a vedere. Si fa sputtanare. Ok, possiamo iniziare, Maxi? E stavolta andiamo? Ok, compagnia, sono diventato la luna e crunch. Non è compagnia. È colpa del Wi-Fi della luna. Non è Wi-Fi, no, sì, Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi. Dio, fermati che adesso arriva la luna. Ecco. Grazie Fanta, ma non dovevi. 5 euro. Regà, regà, non aizzatemi Fanta addosso, vi prego, cioè, per favore. Eh, allora. Fanta donna 500 euro e io mi spoglio. Poi, mi sei chiuso il naso, quindi, ragazzi. No, mi sei chiuso il naso così dal nu... Ci sei? Ci, non credo. E allora che cazzo entri? Eh, lascio io la squadra, vabbè. Grazie Fanta. Numero due. Ho staccato il telefono. Vediamo che succede. Come hai staccato? Quale telefono hai staccato? Il mio Wi-Fi dal telefono. Ma sei fuori? Non è quello. Minchia luna. Dio. Oh, mi sei chiuso il naso in un... Ma... Soffialo. Allora, ragazzi, devo partire o no? Io sto impazzendo. Vai, vai, parti. Vai, figa. Parti adesso non lo rompio. Eh, mo' si incazza con me, no? Cerco e li brecchio la life. Maxi, fermati. Fermo. No, allora, ti spiego. Esce l'una. Maxi, vai. Eh, vedi? Vedi? Appunto, allora fammi cercare. Ogni volta mi fai fermare. Mi sono... Mi si è chiuso il naso. Il naso? No, il naso. Ecco, tu hai. Ripartiamo superare tonazione, arriviamo a 200. Non farlo. Non per questo. Ma lo sai l'altro giorno che ho fatto... Ci hanno riuscito. Stavo in parti con l'una. Eh, eh. Ho cercato una... Sì, ieri sera era, dico. Eh. Mentre lei aspettava a casa. Ho cercato una classificata. È un trattacielo. Artificieri, indovina chi c'è col quale. Chi? Bicio. Ah, Bicio. Ho trovato Bicio a cazzo di cazzo. Ciao, umbe. Ciao, umbe. Minchia, minchia, umbe. Ho visto la foto su Facebook, quella dell'ultima cena. Mi sono piegato. Stavo morendo dalle risate. Grazie, Fanta, per i tuoi due euro. Ripartiamo. Perché mi è uscito... Santino, come subito, eh? Sotto. Lezzo. Io non esco. Io non esco. Eh certo, perché se mi è uscito è picchio. Dopo la quinta, sesta volta. Difendete le bombe. Ma perché siete live? Perché siamo live. Sotto in campo. Ah, ma siamo al suo artificio. Bella. Per chi non lo sapesse, sono passato ad artificieri. Anche io. Oh, ma madonna. Allora, no. Posso abbessermiare? No, Maxi. Ma prima tu hai tirato... Io non ho detto niente prima. Bananoso, sì. L'hai detto bananoso. Eh, dio bananoso non è una bestemma. Insomma, è dio mattone, dio banana. Sono tutti di... E allora dio yogurt, dio cucchiaio, eh. Dio yogurt. Sono altri di... Sono altri di... Un po' ero per il mio feo. Qua ho trovato le boba. Ma io odio artificieri. Odiavo. No, ti giuro, io niente. Da quando ricomincio... Ancora? Anch'io? Non è che ti perculo? Gioco veramente artificieri. Ma chi ti conosce? Sono già sopra? Sì, vabbè, anch'io che gioco stese... In... In... In cosu... Ah, l'ho visto. Quella era la testa. Cristo tornerà, la nostra terra guarirà. E io fissano... Madonna di Dio. Cosa? Dove? Perché c'è gente che muore di continua? Ostia! Where are you? Calmi, calmi. Fuck the system! Eh, vabbè. Sì, va bene. Iniziamo da Dio. Presidità, madonna bella. Da oggi, poi cominciare a... Guarda tutto il sangue di buono. No! Certo! Vai! Bella! Chi è che ti ha abbandonato? Sono usciti. Che palle, dai! Ma cosa abbandonate? Figa, faccio più schifo di voi! Stavo dicendo... Viva salvataggio! Fros, non ti vedevo giocare Artificeri da quando Gesù andava all'asilo. No, sinceramente non abbiamo iniziato a giocare... Io non abbiamo iniziato sul canale a giocare ad Artificeri. Poi dopo abbiamo cambiato, però non mi ricordo cosa. E saluta! Poi, indian boy! Vai fuori ai marroni, va! Wewe, come va? Ciao Strike! Wewe! È avviato altissimo! Dobbiamo individuare una bomba! Ehi, 24 di ping! Sono diventato olandese! Frost usa il dock con il pompa! Mi volete del male! Frost, per il glitch di costa ricordo! L'hanno tolto! Il drone è alleato! Ha trovato una bomba! Robbo! Prima ho nominato il suo nome in live, giustamente... Che cazzo ci fa con sto in live? Ma, ma, ma siete in live? Eh no, mia nonna! Ciao, Robbo! Non è arrivata la notifica! Ma dai, YouTube fa schifo al cazzo! Come stai, Robby? Benissimo! Ecco, devo aggiornare l'applicazione. Allora, ma hanno fixato il bug, no? Frost, vai a vedere la stats... Vai a vedere le stats. Che sono le stats? Le statistiche? Vabbè, mi tocca... Vabbè, è un giga, minchia, non è che... Due. No, come due. Eh, se in due è un problema. Vabbè, se... Due, tre. Mi sono mancato, eh, bastardo! Abbastanza! Eh, lo so, lo so! Vediamo se riesco ad installare questo... È genemente! Ehi, ragazzi! Il nuovo Pengu! Sei un genio! Sei veramente un genio, testa di merda! Non dovevo aprire! Pengu, ragazzi! Pengu! Ehi, va bene! Si è fatto fare lezion con la pistola! Oh! Allora, nano! Nano! Allora! To! Eh, che Cristo! Cioè, allora! C'è un messere! No, vabbè, c'è... Mesh, muoviti a venire in live, porca troia, chissà, ti venga a prendere a Bologna! Oh, stia di Dio! Ti beggo, ti beggo! Ok. Se comunque, mi spiegate dove cazzo sono finiti... Oh, ce l'ha fatta! La Luna! Allora, io ci... Ah, Luna, scusa, la foto l'ho vista adesso! Esci, 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 esci... Come funziona bene! Come funziona bene sto gioco, mamma mia! Headshot, il film! No, la risposta del telefono è Luna! Ho detto qualcosa di sbagliato! Betta! Madonna, ma stasera le mani dove ce le ho? Mamma mia! Grazie Dio che è la prima, però... Sì, sì, dai, ti beggo sto cazzo, bravo! Esplosione X 32... Potrebbe essere italiano! Hai capito che è successo adesso prima? Luna aveva detto a te... Eh! ...esci, rientra dal party, no? E il telefono si è attivato ed ha capito! Esci, rientra, esci, rientra, esci dal party e rientra nel party! Nel parroco? Nel party! E il telefono risponde... Ho detto qualcosa di sbagliato! Se proprio vuoi che vada, dimmi almeno a rivedere! Lo ha fatto? Chi ci gioca per essere? Cosa c'hai? Vorresti mai provare? No, Lela, ma sono in live! Ma ti sembra adesso il momento! Merda! Frost, stai le mai! Dove l'una vanterebbe il trovo di 3 metri per andare a recuperare! Ah! Grazie! Grazie, ragazzo! Ah, ma a proposito, Frostino... Sì! Mi dica la situazione del bigrip, per favore! Mi dica! Li sto usando in questo momento! Eh, mi spica meglio! Io, se mi infilo la carta di prepotenza all'interno del sito... Eh! Così... Non ci compri un cazzo perché sono in preordine! Quindi io me lo preordino per me! Quando escono, mi riscale i soldi! È come se fosse una raffle per le neck of white! Minchia, oh, ma come ci sei arrivato? No, perché tutti mi chiedono... Eh, ma non me lo fa acquistare! È un preordine! È un preordine! È perfetto! È come le raffle! Bene! Occhio! La posizione di una bomba è compromessa! Ragazzi! Dimme! Questa cucina è magica! Cosa ne pensi dei leaks degli italiani? Che secondo me la mappa sarà metata in Toscana! Ah, ah! Madonna! No! Pure secondo me lo sai che ho pensato... No, lo sai che hanno detto addirittura... Non so se conosci Policoro! Che sta tipo in Puglia, Calabria! Che cazzo è la roba! Che odora! No, Policoro! Ci sono stato io! Cioè, l'ambiente non è a Matera! Siamo a 5 secondi! Eh, Matera! Sì! Hai sassi di Matera! Sì, ci sono stato! Il contenitore si trova dietro il sasso più grosso! Ma qua sono tutti i sassi! Eh, vabbè! Cioè, vabbè! Le mie statistiche... Ah, dove te faccio vedere? Sarebbe un'idea, sai! Finchia, stanno rascendo con i porti da qua! Da dove stanno rascendo? La camera da letto! Minchia, chiederlo! Lui non è tornato online! Maxina, dov'è? Maxina! Minchia! Tu e le call! Vacca puttana! Eh, stavano qui! Stavano, eh! E sono entrati da cucina! Va bene! Ma io posso sentire bene! Ok, ci so! 106 minuti! Vai! Vi aspetterò qua con ansia! No, ragazzo, 1-3! Che madonna mia, che schifo! Sta piantando a sinistra, Anduja! Oh! È lì, Maxi! Lì, 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 lì! Brava! Bravo, Maxi! Anduja per tutti! Non Ganduja! Alibi, rispondimi! Ah, ma quindi ora, tra un'oretta, Frosta giocherà con il miglior tappeto su Rainbow Six! Oh, dio mio! Ti voglio bene, Frostino! Mi daranno il motivo perché non giochiamo sempre insieme! Oh, 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 è scherzo, è scherzo! È perché non mi caghi di striscio! Non è vero! Ja! Sto qualcuno su una... Su una... Su una sedia! Su una sedia! Sto sul culo su una sedia! Su una Tesla! L'immaginavo questo! Guarda come volo adesso! Perché stai cantando Capoplazo, Tesla? Quanti problemi hai? Dai, Maxi, che sei un misto da Calcutta e che è pequeño! Su! Sì, sì! Sì, vabbè, ma... Frosta si sa che ora vieni a Lorion a vedere Sfere Bassa! Certo, certo! No! Vieni qua a Roma a Lorion a vedere Sfere Bassa, lo vedi... Viva Ibana con le cariche! Eh, oh! Fros, dia a Maxi di finirla di cantare sempre la stessa canzone! Allora, se vuoi, ricanto! Siamo i vatussi! Siamo i vatussi! Piantissimi negri! Ogni cinque passi! Facciamo 91 metri! Sì, ok, ma io vorrei ancora avergli le orecchie, Maxi! Porco demonio! Eh, ya, Stefano, ya! Maxi, stai zitto! No, ti ho detto solo di stai zitto! Uh, revolver! Ma colo, immaginavo! Perché sul defuser, I? I don't want to set the world on fire! Quanto è bella la revolver con la maniera francese! Da quel tocco di... Che non caggia in più! Eh, sozzo! Gesù, Giuseppe e Maria, dissero Fai Wall Bank! Oddio, quasi! Vaffanculizzatevi tutti! Coglione! Oh, da sotto, da sotto, Maxi, Stefano! Eh... Non, 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 non... Maxi, ma il dol cazzo sta... Questo mi asce sempre in pre-fire, sta dentro! Io non lo so, mi bullizza! Cos'è che gli ho chiesto a Maxi? Dov'è? Secondo te che mi ha risposto! Ho detto, è dentro, è dentro Che ti devo dire Sta lì vicino al K-Gun Travola Puoi avere tutti i bigrip che vuoi Ma se hai gli stick interni rotti Non ce fa incazzo Dai Bravissimo, uno Adesso mi pusciano intieme Eh, sì, un attimo Non sono mica a Bonmax Ah, è lì Oddio, c'è quanto C'è il bello Il bello è che il C4 l'ho visto con la coda dell'occhio Quando mi era esattamente sull'alluce Comunque complimenti questi qua Comunque complimenti questi qua Che trajardano in libera Però va bene Youtube Dustin Tedesco You love my baguette No, umbe, aspetta un attimo You love My Baguette Eh, sì, così dopo Mi cosano Frost 1 Vi voglio bene Ma siccome non posso darvi un po' di Ganduia Vi offro un caffè virtuale Grazie mille, umbe Non so dove cazzo Vai a fare colazione Per pagare un caffè 5 euro Però va bene Grazie mille Ok Quindi Robo 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 Minchia non c'è No, no Gira Robo Panza Era un po' che non mi facevi divertire Ciao Filippo Ciao Io voglio farmi una gamba No, no, oggi ci sono io Ascolta Il signore dei purini Allora Dai Cerca Cerca una classificata Maxi Va Stava Stavi dicendo a lui Il signore dei purini No Calcola roba Il primo maggio Se siamo fatti tre purine Alla mensica Eh vabbè Così tranquillamente È 5 del maio Andale, andale Io che cazzo mi prego a me Il 10 maggio è il mio compleanno Il 10 maggio mi invidi al tuo compleanno Mauri Però ci devi venire Cazzo è Mauri Mauri Alper, il 10 maggio che giorno è? Ma che cazzo ne so Mi sa martedì, mercoledì O sabato Ma che cazzo ne so Se è mercoledì Vobbo aspetta che sto venire Mbè Mbè Ah vabbè Non trovo il messaggio di Mauri Eh vabbè Il 10 maggio è giovedì Sì Sì sta proprio a venire Mauri ma non hai niente altro Dio Non hai giocato Adesso Trillax Ah Trillax A me mi dà del bot Quell'altro lì che ci ha chiccato Pezzo di merda Per andare a giocare di Nesl Su 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 FIFA E poi mi dà del bot a me Sì sono un bot Ok Come Joxing Sì Sì come Joxing Sì C'è anche cazzo Dobbiamo cominciare a farità Di vedere classificare Me ne servono due pippe Di pippe E Bot Eh continua Continua Fanculo Fanculo Ma il cucchiaino di Trillax Dove è andato Non lo vi voglio Ma sì È più tipo Purple o White Ma perché dovete parlare di droga Nelle mie live Ostia Cosa ha chiesto Purple o White Che cazzo ne so Preferisco Purple o White Purple Ascolta Io l'unico Purple Che mi piace Purple Rain Di Prince Purple Dovrà tutto Purple Testa di Nacio Come si dice Purple in inglese Purple Eh E allora Non ho detto Purple Il suo Purple Coglionazzo Vabbè Sti qua parlano di droga Poi mi arrivano a casa mia Gli sbirri Oh Tu conosci il genio di spaccia E io Sì Si chiama Roberto Pisaturo E quell'altro E quell'altro E Massimo Stefani Esatto Massimo Stefani F**K 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 Ok Comincia a baricarti Però adesso siamo in classificata Baricati Eh infatti Però come classificata No fate schifo Sì sì Ti classificano Calcola C'è l'arcomo più buono del mondo L'amico mio Veniva da Roma Veniva Oh minchia continuano Naturalmente Ah vabbè No ho capito Quando c'è Quando c'è intesa C'è intesa Maxi mi sembra drogato Mi piace Non è che ti sembra È drogato Sei giorni su sette Io? Sì Ma io e Maxi facciamo a gara ogni giorno Eh A chi arriva prima nella tomba Io punterei su Robbo però Sì sì Se muoio per colpa di quella roba Guarda ti giuro Ti lascio tutto a te Ah ok Almeno Almeno Per quelle cose Ma daiste Che belle che siamo a 37 Sì Aspetta Io non vedo Che gli danno tipo la purple Aspetta aspetta Fermi tutti Per frosti Io lo mudo un attimo Se no poi Gli segnalano un video Non prendete le bombe Eh dimmi 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 Ecco Sono un amico Eravate Tu lui E altri 3 amici E c'erano quattro ragazze No? Così Eh hanno drogato le ragazze per farsene Ma è vecchio come il mondo sta cosa Ciao Ciao Elios Buon proseguimento Anche a te Grazie di essere passato Ricordati che abbiamo un conti sospeso Con dei chopper 10 secondi 10 secondi Forremmo muove l'identità Marzizitella Non ho ancora visto il trailer di Red Red Redem L'ho tirata malissimo Vabbè Ti hanno scoperto Torna indietro Giorno e notte Guarda che si sente Maxi Diglielo tranquillamente Guarda che ti senti Maxi Ti sento addirittura frost Quindi è inutile Eh vabbè Eh vabbè Mutalo No Via 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 Colpito Ma no Via Purple Rain Purple Rain Sf Perfetto Grazie Sostanza della cosa Tre purini Ok Che sesso Come si salva Che palle Mi senti Certo Cazzo c'è uno qua Qua sarebbe Qua Cambio cuffia Fontana Ok Occhio La squadra D'attacco Ha trovato Una bomba Delivero Il drone Termite 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 Ho messo la claymore Termite è morto Non ho preso Non ho preso Termite Ho preso uno dietro Termite Termite è quasi morto Ciao 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 Assista Madonna c'è lo stick interno Rotto Sì pronto Grazie Io ho 14 Di colpi Con caricatore Io non ho uno in fontana No non ce l'ho più in fontana Restano 15 secondi L'ultimo nemico Bella lì ragazzi Bravo Maxi Ok In pratica Non è colpa dei big grips Riassumiamo Che Dice Ma è per colpa dei big grips No In pratica Dovete sapere Che Da quando io C'ho la ps4 Sì Perché I problemi Sono partiti Principalmente lì C'è un problema sostanziale Cioè Il fatto Che si rompe Lo stick interno Del joystick Se voi aprite Un joystick Guardate internamente Il meccanismo Che regge Il collo Dello stick Quello lì Quando voi premete Preme su una membrana Leggerissima Ok Questa membrana Se si consuma Non vi fa più correre Non vi fa più coltellare Non vi fa fare il click Ok E quello è il problema In più Quando Vedete che sono fermo E mi si muove da solo Mino È perché Quello stick interno È rotto Ma tutti i drogati In sta live Siete Vaca puttana Sì Sì Parpo Lo gigusce Sì Il drone alleato Ha trovato una bomba Eh certo Ancora 10 secondi Sì Sempre fino a mezzanotte Ulde No 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 Lo scafo Il controllo è normale Che vuoi Dillo che c'è lo scafo Perché devi Non ho lo scafo Madonna cara Secondo te Non hai soldi per Vabbè niente Non te ne penti Maxi prova la codeina Non te ne penti Figa Prova la Codeina Prova la Verona Ho provato Però non è Che è il tuo papà Ma hai sentito Vado Vado al joystick Madonna Andi col disinnescatore Ricarico E' il mio ero Vado 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 C'è un attimo Un problema Qua Si chiama Mira Vado 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 Dai, Joxin, vieni a giocare anche a te Dobbali, figa No, mi è scappato Woodrow, mamma mai Ah, è lì per terra Non destra neanche l'attenzione Ottimo Oh merda Oh merda Ce l'ho qua Ce l'ho due Ho fatto la cazzata Ho fatto la cazzata, Maxi, sono morto Allegramente morto Maxi, Maxi, rusha lì Lo stick rotto, lo stick rotto Qua, 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 Maxi Muoviti, muoviti, muoviti Vai, colpito Sledge Lì Preso, bella Bello C'è un altro Sì C'è su, giù Sopra? Sì, ma ha rotto la bada da sopra Scende da sopra, mamma Non sei l'unico Sto usando i bana come cadavere Signorina Un chiropratico? No, ragazzo No, ragazzo Raga, io metto la peneste in base Sentimo più tardi, va bene? Sì, sì A più tardi A dopo, ragazzo Ciao A dopo Non sto guardando più la bottola io Sto guardando io la bottola, Maxi Oh, ascio Bela, assi L'ultimo nemico rimasto No, no, a te pare che l'ho sfigato E qua sopra, è qua sopra Bella Bella, bella, bella Ma anche tu ti giocano questa pistoletta Vabbè che è troppo forte Però da Vedrò perché Ok, ok, Darius Maxi Bella, bella chiusura a granchio Abbiamo fatto Però ho sbagliato io Sai perché? Perché in pratica Sledge mi è entrato di schiena Io lo potevo uccidere Il problema è che dietro c'aveva gli altri Sledge non l'avevo capito che stava lì dentro Perché io sono entrato tutto tranquillo Ho preso in bana E poi stavo lì Quando ho visto che sparavi dietro Mi ho detto aspetta Perché spara dietro di me Mi ha detto colpito Sledge Ho capito tutto Mi chiamo il mio padre Mi ricordo la telefono Ma ci sono Il drone ha trovato una bomba Ok, aspetta che invito alibi E anche la luna magari Sti cazzi Madonna Ok, adesso invito anche la luna Secondo me Secondo me io entro in partita E sono morto Ho questa sensazione Ok Sono vivo Non ci credo E ho il defuser Che bella notizia Da dove l'ha ucciso Maxi, posso entrare? Maxi Perché non sento Maxi? Scusate Maxi Ricarico Copritemi Oh Ha inferimento L'ho messo in ferimento Oh Merda Comunque scusa Sto la telefono Non mi va No vai tra Vai tra Devo stare attento Che non mi apra sopra Dicevo? E pure dietro Eh vabbè Figli di puttana Figli di puttana Eh vabbè Ho sbagliato io Ho sbagliato io Che cazzo però Ma no No Perché mi chiamano sempre Mentre sto a giocare anche Libri Ho sempre Non mi chiamano mai Poi Poi Non mi chiamano mai Ma poi quando chiamo Adesso Nat Era un'ora che cercavo Di te D'entrammo No ma Ho sbagliato io Perché se mettevo subito La Claymore Eh ho sbagliato io Ho sbagliato io Dove ho mettere la Claymore Lassopra Solo che ero 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 Incasinato Porco diaz Allora Ah ma Infatti io ti chiamavo E non capivo Eh l'avevo detto Non so Rispondo Nel telefono Eh solo che Quando l'hai detto Io ero già Nel mondo dei sogni Che comunque Smoke Io boh Stavo ancora fuori C'era la testa Sparo Esce il sangue E sopravvivi Allora entro E l'ho messo in ferimento Ma mi ha pushato Pure Doc Togli dal gioco La musica Ah ma non Non c'entra Perché sto gioco Ha fatto Vedi che non ce l'ho La musica Sto gioco è talmente Fatto bene Che quando sei In situazioni coincitate C'è la musica Difendete l'area E proteggete le bombe Oh Nice posto Sì Era meglio La squadra d'attacco Ha trovato una bomba Preparare le difese Regolarsi di conseguenza Dispositivo in gioco Che hai detto Maxi Mancano 10 secondi Ancora 5 secondi La luna non mi risponde Guarda che io gli chiedo Se c'è La squadra d'attacco Ha trovato una bomba Prepararsi all'azione nemica Ok Ma col compensatore i colpi Va una minchia Cioè Questo gioco funziona Ma cazzo vuole Olè Buonasera Ciao Roby Ciao ragazzi Tutto bene Tutto ok Tutto ok One secondi Cerco di avviare Anch'io La La tua live Così Dovrebbe anche venire la luna In teoria Minchia ma siete tutti lì Scusa Ok L'ora giornata pesante Sì, è lei la ragazza di cui stavo parlando prima Boomer e Robbo No, 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 sono rientrato per dire Che io lei già l'ho vista da qualche parte No, lei non l'hai già vista Magari l'hai già sentita Instagram, io l'ho vista su Instagram Non sei zitto Sì, ma state calmo, sei un paparazzo, sei uno stalker No, devo capire chi è Aspetta, mi devo ricordare Si chiama Alibi Maestro, circa su YouTube maestro Ok, perfetto, devo aver capito chi è Robbo, state calmo Ciao Lo sai che quando sente profumo di ragazza Entra tipo Ma non so cosa Tipo a riete Tipo Fatemi entrare, ditemi chi è Una cosa simile quindi No, 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 no Eh, volevi, è la testa di merda Fantas, smettila di scrivere col caps lock Che segui anche te al lupato, porca puttana Allora, la luna sta avendo problemi di connessione Si stacca di continuo la fibra E infatti sta bestemmiando Santa donna Adesso siamo 3 a 2 Se la chiudiamo almeno ti riusciamo a invitare subito No, intanto sono ancora nella schermata di caricamento Ahah Il disinnescatore è di nuovo nostro Raggiungete la bomba e il disinnescatore La faccia aperte per il nemico Si Maia, chi è costui? Perché il party è bello? Perché è esatto Maxi, sai cosa fare? Cazza fuori? Il bello è che il party è tuo Però ci devo pensare Ma tu sei il mio segretario Però Ah, lì è barricata Perché si risponde A tua madre Ti giuro che si riesce dal di fianco Ah, ah Porca puttana che caga Vacca puttana Uccido da te No, era nell'angolo Il mio pot è cattivissimo Si, il mio nightbot è Guardate questa, frasso Guardate questa No, l'ho hittato No, raga Io ci voglio la muoviola Sto spavento Puttana troia Gojork Ti ha presidio artificieri Io? Si Presidio Ok, perfetto Sono un coglione A giudicato No Tu sei topolino Non sei un coglione Tranquillo Ma una bella clan war fra di voi No Mi spieghi perché? Spiegami un attimo perché Zello Orcio si trova qui Ok, per questo Avevo letto Zeno Bianchi Ho detto Eh, cosa? Guardate Io guardate Sì, Mauri Frost non serve tanto togliere la musica Eh, dipende Perché ti stavo dicendo Prima hanno detto anche di togliere la musica Il problema è che su sto gioco La musica te la mettono nelle fasi coincitate Non ci capisci lo stesso una sega Io ho tolto la musica del gioco Eh, anche io Però tipo quando sei incontesa eccetera La musica c'è sempre Quindi Zello Orcio Zell'ansia Di spiegazione M87 Mi ricordo del tuo nome Ma non mi ricordo chi sei Abbiamo il disinnescatore Buoni tutti Citti tutti Che fa questo capisola? Ma che cazzo fa? Vabbè rega ma è stupido È proprio stupido Ma Ma perché non ricarica? Citto Citto È lì È lì Che cazzo fa? Prima erano 15 secondi Ma questo sta male Ma vedi che la madonna ha un palo nel culo però Eh vabbè Maxi Complimenti Ligatissimo Ma dai Ma guarda che ridadati squadra Ho capito Niente 3 a 3 C'è sta collo vuo che esplora la mappa Io non lo so Mancavano 30 secondi e ancora stava di fuori Io non lo so veramente Eh lo so però lo sai che non riceveva la fortuna Citto madonna Quello lo sono già tranquillo Cioè non è possibile che un essere superiore abbia creato gente così ritardata Allora dovrei aggiungere le sfide Solo che Fai 5 de mayo Eh quella volevo troppo il ciondolino È troppo carino È carino Ci sta Comunque Alibi è questa ragazza qua È quella ragazza con cui ho iniziato la collaborazione per il doppiaggio Però lei fa dei doppiaggi Altro che cioè Ragazzi Qua siamo su altri livelli Ha la faccia del delicato eh Maxi Sì Alibi Ah aspetta che lo scrivo nel titolo così almeno magari qualcuno lo capisce Ma io ho scritto ai miei ragazzi di passare Cioè su Instagram Non so se lo leggeranno mai però l'ho scritto Ma scusa un attimo Maxi mi guardi un attimo il titolo della live Perché c'è scritto Far Cry? Aspetta Perché c'è la mamma che si chiama Lela Lo so Dovrebbe essere cambiata in teoria Poi arrivano questi messaggi su Whatsapp Poi mi spieghi come fa una non distrazio Cioè scusa Comunque c'è il dritto library in notiziazione Facciamo due chiacchi Ah ok a posto Devi ancora rispondere sul grucio Maxi io No io 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 cazzo ero di nostri Pensavo Tra un milione di spermatozoi è uscito lui Penso un po' che il 100 avrete Maxi Eh 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 La mamma dice sempre che con un cromosoma in più sono più bellino Eh eh sì mi sta di sì Proviamo il 360 Eh no non va No 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 Eh vabbè già ho aperto Ti prego guarda dietro Guarda dietro Sono io lo sai vero? No non hai capito Dietro non ho la Claymore Luna allora io provo a vedere se riesco a rimanere alla light Se riesco dopo questa ci sto Wow perfetto Così viene anche la luna Colpito Assista assist Maxi 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 C'è mira incazzatissima C'è mira incazzatissima È mestruata come un orso Ho detto io Ma sta là sta là Dove? È davanti a te Ma morta morta È una uccide adesso Ok Ma perché c'è un aggiornamento? Ma che aggiornamento? Ah più chiari? Aspetta aspetta Ma è là in fondo? No Ce l'hai qui a terra Sei sicuro? Eh lo senti? Eh lo sento sì ma Eh il tonio è qui Due anni fa stava qui Poi c'ha le altre Non è Vedi che non è lì Oddio Eh lì dove stavi mirando Ma sei down Aspetta aspetta Maxi aspetta Porco Però poi lo finisci quel cazzo di corto Lo dico Planta È qua? Eh niente 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 Porco demonio Eh No guarda Qua mi sentiva Mi sentiva Io mira Pensavo fosse dietro il vetro Ah madonna santa 61 di ping Che Che Dove cazzo giochi? Aspetta 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 Sta a vedere che adesso rido Vediamo Rpc god Beh Devo tryardare No no Non tryardare Porco demonio Calmiamoci Magari se entro nello spirito di Soler Riesco anche a farcela Nello spogliato io di salà No Nello spirito di Soler Coglione Oh ma Guarda lo zello orso Che se si chiama la regola Ma do due picci Aspetta un attimo Ciao radio Proprio 555 Vabbè Sei il mio youtube Preferito Che coglione De robo Ebbè Poteva non essere francese Io e i francesi Madonna Siamo Adesso mi sciata Adoro Oddio Regole Non bestemmia Cheat Non insulti Cheat Vabbè Ragazzi Non si chiede l'età E' una donna Ah io Menti La squadra ad attacqua Tornata Preparare le sfide No mamma No assolutamente Non ti preoccupare Aspetta 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 10 secondi Chi è che mette questo scudo Qui ogni volta Madonna se mi fate venire il cancro Restano 5 secondi Ogni volta per passare un anno Comunque vedi Se io avessi avuto un po' più di sensibilità Nella DS Aspetta la sensibilità 40 dai Vabbè era E' già 30 E niente lui si è fermato là dietro Se no me le Vabbè collo uomo Qualche le kill Zeno bianchi Frost come Ma artificieri Eh boh No 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 Perché io l'ho messo in ferimento E lui è vivo E cioè lui mi ha ammazzato Sì Piegamelo Maxi No Piegamelo Maxi 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 Voglio spiegazioni Adesso tiro una di quelle madonne No perché vedi che la madonna C'ha proprio i paletti Io boh Lo so che c'ha i paletti La madonna Ma lasciala lì Ah no Uccidetela Con la troia di Ash E il parentezo Alla prima Però è un gioco fatto bene In realizzino Dai Ma no Io già C'ho già visto da qualche parte Certo Puoi lodare il sole Per solare Oppure uscirte nel triunfante Nel campo di battaglia Con Cesare Ma non mi piace Cesare No mi aprono Mi aprono tantissimo Maxi Mi sto cagando addosso tantissimo No ho messo la Claymore Sono un coglione Sono un coglione Sono un coglione Eh sono morto Dai raga Ma perché devo rimanere Eh vabbè Flash Super Flash Sto tornando su Aspetta Eh muovite Muovite che c'ho Ash Perfetto In tasca hai un botto di cash Eh 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 Mi stanno prendendo No no ragazzi No ragazzi Andatevi a vedere la life Vi prego Era un colpo in testa Sul termite Vabbè Guarda Uh come ti ha scettato L'ho visto Madonna Era un colpo in testa Cristo quello Perché io torno E se è rimasto a Collowater Va bene Collowater Bra Mamma mia Che pro player Ma di che stiamo a parlare Meno male che adesso Invitiamo Almeno ne abbiamo un terzo Con la testa Io ho fatto una cornice assurda Io veramente Gente così brava A fare cornici Non avevo mai visto Manco Mafius 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 fa le linee rette È vero Me l'ho scordato Io veramente Ma come si fa Mi spiegate E come si fa Con me in squadra È facile Ma non a perdere A mettere in pedimento Ash Sparando un caricatore Sulla sua fronte Che c'è Boh vabbè E come si fa A lisciare Termate Se vuoi ti invito Panto Però C'è nel senso Vedi te Facciamo presidio Colpo in testa Confermato Vi prego ragazzi Fatemi una gif Qualcosa Mandatemela su tele Devo far esplodere La Ubisoft Ok Invito Robby Allora Luna si vedono i miei messaggi Sì sì vedo È tutto va bene Ok Invece no Ti clippo Grazie cazzo Intanto invito Panta Allora Intanto ormai La cosa è finita Come è che sui youtuber Se si fa Io nel dubbio mi guardo La lag di Gabboli Perché è così Troppo E finisce Vai a cagare Allora Sempre meglio di Joxin che vada Aluc A parte no Non è lui Era Goss Era Shuk Shuk Cosa Non è vero che Joxin è ovunque Chi è che devo buttare fuori Dal clan Quando Shuk Shuk Scherza Dice che è meglio Ah ok Ah ok No perché chiedo Perché sono tre volte Che saluto No no Sì sì Si legge Non si può Ragazza di nome alibi Uso la registrazione esterna Cazzo ma che cazzo Stai dicendo Ok Panta è entrato Adesso lo invito in party Ti ha invitato Oro Sì Sto facendo partecipare Alla partita Solo che non so Quanto ci stia Ah Mi piace Mi piace Io ho raggiunto Non posso più accettare Richieste di amicizia Eh lo so Ho visto prima Devo buttare fuori qualcuno Mi dispiace Butta fuori Joxin Voglio una lotta satanata fra donne Ma cosa L'unica donna che c'è in party Alibi e basta Al momento sto di solo No la luna salta La corrente C'è intra Non capisci Sì alibi è un canale Con i controcazzi anche Siete in Aspetta Vabbè siete in 31 Andate tutti Iscrivervi Che tanto Fate Fate solo Un'opera buona Ma loro sanno Della collaborazione Ma sinceramente Non so Quanti di loro Siano Veramente attivi Sul canale Quindi l'ho detta Anche prima Però sì Penso di sì Cioè l'ho detta Anche prima No beh Veramente Sarà una cosa Fighissima Ho parlato Con quelli Rainbow Six D'Italian Come in G Buonasera Fantana Buonasera 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 Dimmi Kazza Carga Mi papà Vai Maxi Cerca Aspetta Aspetta Luna c'è No metti Presidio Presidio Capito Non ho capito Panta dimmi Ha detto Kazza Sì Può entrare In party Non dà fastidio Va bene Dai Ciao 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 Luna Luna ti ricordi La tua battuta Oh ciao Ciao Gioele Ecco Devi dire La tua battuta In anteprima Ma come no Non è mica Coso Ci sto ancora Lavorando Ciao Dai Non è online Ma Luna viene o no Io provo a rimanere un attimo in party Perché se crasha dal party Significa che no Ma lo sai prima cosa è successo? Cosa? Che io ho fatto headshot su un francese e non è morto No no Era collegato Tutto alla chat Ah Lu Tu ti sei perso oggi pomeriggio In pratica Abbiamo tipo Mandato a puttane una classificata Perché Trilly ha messo sulla musica No? Ha messo su Daddy cool Abbiamo cominciato a saltellare Ti bagare per la mappa E li abbiamo anche uccisi Bello è quello Solo che poi La classificata è andata a puttane Perché Trilly ha cominciato a mettere su Un cazzo schiama I BG's eccetera eccetera Allora è finito Luna ha cominciato a affamare La foto del suo telefono Su ogni cazzo di gruppo Incredibile Quale foto? Quella del telefono che gli risponde E gli fa qualcosa di sbagliato Sì Allora Taci che la cosa più bella La cosa più divertente È successa Trilly scrive Simo È colpa mia Sì Trilly Se non metti gli accenti su lei È colpa tua Ma che sì Quel video è stato fenomenale Eh Sono capito un cazzo Ah Le guido La statuette Belle La statuona Bella Ma dove va? Ok ok Era tanto bello Cold Blastfence Ma se accidentalmente parte il video Eh no Allora non ce la fa Io chillavo con la musica Perché io sono una bestia Ma scusa perché Oh baby Mi fa sentire male Nibbana senza Senza Claymore Eh già Però ha le sue lattine dai Guarda il lato positivo Tua madre Maxi Quella Quella mignotta Esatto Doppia anche Sulla Tiburtina Sassata l'aria Eh dove? Sassata l'aria Mettici pure quello Allora Trilly fragello di Dio No Buongiorno Buongiorno Cazzo Stamattina è fersa C'è russo Sassà E cala E cala Ci serve amici È finita la pace Cazzo comunque stanno andando avanti con Costina Trovate il contenitore di Bioricchio Ok Ma 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 perché ti chiami la ragazza Anzi Lo scoprirai giocato con me Perché anzi Sassata l'aria Ah 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 è tipo la luna Quindi quando è nelle situazioni critiche comincia a A iperventilar No l'aluna comincia a bestemmiare È vero Anche io L'aluna comincia a bestemmiare e comincia a dire Zitti tutti E bestemmia Zitti tutti e bestemmia No è come me l'hai visto Perché ho fatto una busta incredibile Bravo Chi ha caldo Amo Baccio io Amo Baccio perché mi ha messo quel drone Ah quindi Trilli Sono le 9 e 58 Non dovevi andare a fare allenamento Vai 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 Brutazzo con la trance Sponchino Oddio Oh Ma tu si faz E ma ha cagato Cazzo Quindi spiegate che cacchio servono le cariche a Ibana Se lei ha delle cariche e delle cariche Se le servono poter aprire Vabbè ci puoi lasciare dalle finestre Tira carica Sulla finestre Aspetta c'è uno qua sotto Mi sa No no Non c'è No Tuo fratello No ma ha fatto la Claymore Mannaglia quel porco di E' il rainbow Ma ogni volta che lo ha io Lascia io Andan Mi muore Dov'è? Io sono entrato nel giro Sei E' di là di là di là Oh no E' su scale Mannaggia Rappi di gil dall'altra parte Su scale bassa No niente Questo gioco è una merda C'è uno due raga Poi ho preso la trappola di cappone Guardate che non ho uno qua Da dove sono? Da dove? Da dove? Fantasy è il terzo Secondo me No io ce ne ho due Ma infatti Costantino Ash Fa usata con la flashback Assolutamente Ciao Sono Frost Torco mio Raga calmi Scusate E ragioniamo Cristo pedale Ma guarda Che livello è questo Per favore Livello 88 Non le stiamo Che bel gioco Veramente un bel gioco Peccato che quella era terza Eh vabbè Basta Adesso noi concentriamo Tranquillo Dai la seconda La riprendiamo tranquillo Io comunque Spezzerei un rigolo Per Shond Hai riuscito a fare 20 punti Io invece Mi sto chiedendo Perché non mi entra un headshot Stasera Però ok Ah si Perché sto usando il compensatore Allora Oddio Sto facendo Il pan incredibile Devo mutarmi Se non inizio a ruare Perché? Io sto allaggando Giù freddo Madonna Ma c'è chi ha 16 Di nuovo di ping? Non so Chi Ah Shond Ma che rato Rato di uno Ragazzi Non sono dio Ah C'è 77 di ping Ma Ha senso avere Ibana con le eruzioni Secondo me Sì Cioè Secondo me Con la Claymore Era dio Però Adesso Avranno detto Vabbè Magari può pushare Anche lei Ho capito Però comunque Ibana Già è forte di suo Con la sua secondaria Chi è che ha aperto La botola Qui Ma spiegate Chi è che vuole Ma vedi che c'è la mamma armena Io ora miento Io boh Ah mamma Perché poveri armeni Ciao rocket E io c'ho lo stick rotto Quindi mi si muove Da solo personaggio Madonna Cazzo Mi è passato davanti Ecco Perfetto Fatta Sofia Bravo Maxino Ma Chuck Norris Non l'abbiamo scoperto L'altra sera Sì sì Abbassa la voce Sì sì Dobali Iniziamo già Sono le 10 Ultimo nemico rimatto Fuori L'ho visto Va da te Max in dolè La La Grazie dell'ubicazione Bella Fuori Perché devo di più Devo così Guarda come lo ammazzo Così è già meglio Ok Niente Non muore Rai immortale Porca la madonna E vabbè Bella Olè Era in farimento Mi sa No in farimento No però L'avevo lasciata Con il 5 No no Era sdraiata Che si grattava La Vabbè Andrea La fagiana Ciao Andrea La fagiana esatto Chiamiamola con termini Della mia regione Perfetto Per 10 anni Allora Questa in sala da pranzo Non ho vinto Cosa Ma vanno sotto Sì Oh mio dio Ce l'ha fatta Vediamo quanto Rai Ah Vanno sotto Vanno sotto No Prendo io Termit Che cazzo fai No Perché no Perché io Stavo prendendo Toucher Però Prost A parte che Sembravi crash Quando muoio Ah L'hai fatto Non sottovalutate Le reclut Che senso Ali Viva te lo fai Di lavoro La doppiatrice Figa Magari Che lo vorrei Fai come lavoro Oddio Ma non ho un attestato Bene Io prima ti faccio Un ciucciotto E poi ti do La pacione Cosa cazzo Stai dicendo Robo Figa Che panno Perché ci dobbiamo Fai riconoscere Come i barbari Che siamo ogni volta Figa Eh vabbè Poi arriva Quell'altro Drogato E siamo a posto Eh no A parte gli scherzi Io sono l'unico sano In questa compagnia Ah anche Luna Ma non è vero C'è anche parte Ma che cosa è Che io non sono sano Beh no Sì c'è anche casa No beh Oddio Aspetta Casa no Dopo questa Eh muoviti Però madonna Santissima Vai 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 Olè Non lo so Ma quando proverà A saltare Morirà Non hanno barricato Veramente No raga Ah ma non è bombe Cazzo lo zoom Ragazzi è uscito il sangue Oddio stavo per sparare Vai 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 Niente, devo fare... Ok, ok, chi è rimasto? Entra Con la camera in sé Regà, Sean è durido Oh, vai dove va il Kyria là in fondo? Eh, io li sento su scale, eh S'ha lanciato, ok Se Sean non vuole entrare, credi Se Sean pensasse a questo, noi riusciremo a farlo là C'è uno dietro, eh, c'è uno Attività nemica, neutralizzate la minaccia Bella, sulle scale a sinistra Minchia, me l'ha lanciata, me la polpetta Aspetta, non sparare? Sì, sì, sì Buonissimo Uno c'è la Sean Du C'è vado io, vado io Faccio il buco C4 Porco No, c'era un altro Non l'avevo vista Preso Bella, bella, bella Bella, bella Io farei una pausa comunque Ad alibi Minchia, se ne hai fatti un culo Alto che ansia Ma vendite che hai fatto un prefaccio il must No, no, io avevo capito che era rimasta solo Valkyrie Per questo me la stavo busciando da brutto Cosa? Che mi è succedito? Ho paura Robbo Mi devo fidare Ah, che ne so Ma lui può rientrare Ma lui può rientrare Non puoi il purino, che no, non gli discusa Tu lasci fuori il purino Il purino, magico Madonna, come siete messi male, ragazzi Io sono messo benissimo Noi siamo tossici Ho capito, va figa Allora Voi siete tossici Io ho l'ebbrezza alimentare La luna è messa male Qualcuno sta bene? Ciao 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 Sono Robo Panza Sono un bravo ragazzo dalle cattive abitudini Ciao Perché non l'ho chiamata live San Patrignano? No, perché, non so San Patrignano? Io ho avuto stick rotto su PS3 Ciao Ciao Diciamo Luis Ehi Fanta Metti un mute qui Ho capito tutto tranne mettilo qui Allora Ehi Fanta Un mute qui, grazie Mi sento un bimbo speciale Cosa? No, sono io il bimbo speciale Un cromosoma in più Non rompere il cazzo Io sono unico nel mio genere Sono bellissima Mamma ha detto che con un cromosoma in più Sono più bellino Qui Fanta, ti prego Maxi, ora mi fai tutto Tutto round Anche le bestemmi integrate come Topolino Ok, io sono Topolino Ciao Eccola Ho dovuto fare Anche le mani �� Sì, posso bezzare aっていう Questa, io sono le mani Ehnostica Eccola Allora Guarda che stanno Plantando tipo alla Qua sopra Qualcosa Ah. Tua madre quel nero Mai chiudete quel glono che Masona cat Eh vabbè niente Sto morto Leviti fanta leviti mi faccio fare il mio M worried E niente m'ho ucciso Nero di merda, madonna, saponetta con i suoi gatti. Sì, sono lì dal verde, sono lì dal verde, sono lì dal verde. Mia madre è negra, cos'è contro i negri? Cazzo! Maxi, dal verde, non dal... Ma regà. Niente, non era terza quella brutta, hai visto? L'ho vista, l'ho vista. Sono una brutta persona. Ma sti qua stanno giocando a bombe o...? Non ho capito. Scale, Maxi, scale, occhio. Ah, uno, ma cosa fa, gara? C'è pure capitato dentro, raga. È lì nell'angolo, il nero. Occhio, occhio! Bravo, Maxi! No, l'aveva fatto apposta. L'aveva fatto apposta. No, dovevi fare? La madonna! Eh, ma va a far culo però, dai, ma che cojoni, oh! Shondu, che cazzo fa? Frost, c'era il jammer. Eh, lui è entrato, si è messo in mezzo alla stanza, mi spiegate... Eh, ho capito, ma il jammer me l'ha, me l'ha bruciato. Una bruciata prima. Io sono amico, il giocatore ha troppi amici, ha troppe richieste a minetto spesso. Sono una persona così inutile e così superflua. È muto e traiardo come le merdi. Io non posso, non posso poter richiestare ad Alibi. Adesso cerco di buttare fuori qualche amico che non ha il bichia e... Uno dopo l'altro. Ed io pensavo di essere famoso con 400 richieste da Alibi e non accettare. Ma la sim bella di fuu! Oh, è fighissima! Non te l'ha bruciato. Ma minchia, raga, io ho visto che me l'ha tolto il cazzo di mute. Se no non me l'apriva, scusa. Cioè, scusami, se c'era il mute non me l'apriva il garage. Io non l'ho bruciato. Hanno già aumentato il danno dei mitragioni, non lo so. Devo vedere. Cioè, io sono drogato fino a un certo punto, ma... Figa! L'ho bruciato io! Figa, allora sto malissimo. No, aspetta. È impossibile che l'ho bruciato io, non aveva finito l'animazione. Oddio, sto malissimo allora, scusate. Panta? Panta, fa una cosa. Se mi copri, io entro e fiuzzo. No, no, Panta, guarda la, madonna! Ok, ci siete? Vai. State lì. Guardate la cucina, cucina, cucina. Mi devo spostare? No, 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 no. Carica la grazia attiva. Niente. No, vabbè, sto gioco fa schifo al cazzo. Sto gioco fa schifo al cazzo. Cioè, mi è tornata sulla granata. No! Vabbè, io non ho parole. Io veramente non ho parole. Mi è tornata sulla granata. Mi ha distrutto il mio. A me mi hanno rubato i sogni del feud. Vabbè. Vorrei rispondere a Gualtex. Ultimo numero. Il jammer di Newt prende fino a tre muri contemporaneamente. Quindi un jammer per le due porte del garage. Basta e avanza. Sì. Piazzato sulla barricata destra. Piazzato sulla barricata destra. Prende anche il libanese. Ciao, libanese. Sì, ma io non ho capito perché cazzo sto gioco deve essere fatto così male. Cioè, mi è tornata la granata in bocca. Ma che bell'immagine il libanese. Sì. Vabbè. 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 Oh, rabbia. Oh, rabbia. Ho rabbia. Ho cambiato la clip. Ma va bene. Ho voglia di droga. Dov'è? Dov'era? Ma che cazzo ne so? Ma questi boh invisibili. Bandito sulle scale prima lo presentasse e non è morto. Io ti ha rotto il surista. Che uomo di merda. Tedesco di merda. Mark, sì. È colpa mia, non te l'ho detto. Pensavo l'avessi visto. Pensavo l'avessi visto. Comunque dovevi mettere la sinistra così. Quando il capitale non andava via e non apriva. Ma io l'ho messo a sinistra il bandit. Sì. Gemma era in mezzo. Vabbè dai. Non l'hai fatto apposta. Non ti preoccupare. No. No. Chi m'ha fottuto Iager all'ultimo? No. Vabbè. Mi è rimasto una merda. No. Mi è fatto proprio male. L'hai bruciato tu. Va bene. Ho capito. Figa. Può succedere. Non tirate sempre fuori. Non tirate sempre fuori la scusa del bambino. È nato un bambino. Adesso è di prosto. Allora. Cadono le torri giamelle? È colpa mia. Nasce un figlio illegittimo? È colpa mia. Bruciano il coso. È colpa mia. È colpa mia. Sì. Lo vede. Infatti adesso sto lontano due metri. Guarda. Io veramente. Comunque. Abbi. 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 così è incredibile poi dice uno veramente stanno piazzando hanno piazzato ora aprono fanta 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 non lo fai fanta non lo fai una volta che ha piazzato non lo puoi fare cioè c'è un montain davanti guarda a sinistra fanta bravissimo no no raga scusatemi vabbè il montain non c'è bravissimo fanta in teoria te l'ho messo a 50 di dita da sopra vado io sopra ragazzi c'ho il nigga incassatissimo contro di me c'ho la telecamera io te l'ho io mentre hai la telecamera o no maxi sta lì sì c'ho la telecamera sta lì a destra oddio è entrato è entrato c'è lui che lo copre qui sono in due è dritto e non è molto allora fatta occhio occhio dietro al gusto che deve fare ce n'è una sinistra dietro l'albero e uno dietro i bidoni che a destra i bidoni di plastica e che cazzo nigga del teoria a sinistra in teoria o forse no merda sono stati individuati dove cazzo ha il drone gesù a pedali sono stati individuati è fuori raga volevo informare a tutti i presenti che i sedi è sopra adesso è sopra va bene stavo dicendo volevo informare tutti i presenti che i 16 mila iscritti faremo la live di 24 ore quindi iscrivetevi e non fate gli scemi se la fai di venerdì non lo so non lo so thriller è su il canale di brains and games decide lui eventualmente ma perché perché sta cosa ah non lo so ha detto lui ma come ma comunque valla il venerdì torno a casa alle 3 io barra 2 e mezza e poi ci sto per tutto allora fe 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 vai di account falsi ma che cazzo ah di giro per fare la mia vai con un account e credo di me dobbiamo proteggere il contentore di glorizio ma che siamo andati qui ah guarda scherzavo scherzavo secondo me non se lo aspettavano anche guarda lì ho vizio cane 7 kill ma il canale di chi è? in teoria è il mio il primo che rompe il cazzo lo ammazzo perfetto madonna pazzo madonna quanto cazzo eh trilli ma il palazzo c'era un povero cane passo ma senza ma adesso ah di al mio palazzo c'era un povero cane passo ho dato il petto di panno e farò questo ah la 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 è troppo tempo che non lo faccio quanta malattia c'è in questo party eh? dillo serio dillo come se no no dillo come se non è così velocemente dillo come se non so la divina commedia normalmente ma bello figlio di Apollo feci una palla di perle di pollo tutti i pesci venne ragalla stai zitto eh vabbè dai allora dimmi il primo passo della divina commedia drogato di merda su ah allora eh ti giuro lo so dai ti aiuto nel mezzo del cammin di nostra vita ecco ok non mi ricordavo quella prima mi ritrovai nel culo dai ma lo volevo dire io una mattina bravissimo Panta Otto faci il tempo a fare un altro passo che mi ci ritrovai anche il compasso ahia quanto a dir che è una cosa dolorosa questa selva selvaggia è sproforte che nel pensiero mi ricorda la madonna morta la madonna pelosa esatto lei che nel pensiero mi ricorda rinnova la paura tua madre piace la verdura cosa? ma che cosa mamma cazzo è un caricatore ah cos'è non hai il termite testa di cazzo c'è i bana qui da me e pure i cu sono morto ragazzi perché? mi sono a settantin' un buro fatta di pelle oddio c'è blitz i cu è morta dov'è? dov'è blitz? ma la madonna maxi calmati dov'è? tutti sopra nella porta principale ahahahah ahahahah coca da blitz si è entrati dietro mina concussione no si è entrati sopra sopra scusate deciditi le gambe le gambe le gambe le gambe le gambe appena si alza no torna dentro alibi qui c'è ah no no che stava non l'ho messa la mina occhio occhio c4 quanto lungo boom no 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 non ci potere dalla porta va bene nuovo caricatore si però è ancora vivo è ancora vivo blitz si si quella era faccia lo sento o meno l'ho preso ma che schifo vabbè twitch e blitz ho corrido io blu ma sean duro che è stupido oh a terra a terra buona stava occhio qui a destra a destra a destra bellissima abbiamo il blitz blitz lì blitz lì vaffanculo pezzo di merlo mamma mia due ore ci stavo sparando sto qua qualche roba qualche roba alibi vuoi sposarmi ragazzi ha tornato a twitch in un modo assurdo incredibile a me mi shotta a twitch t'hai ragione t'hai ragione allora prendo per mai il cotaccio io direi ibana no sono serio ibana ibana lala ecco chi la stava cantando eriti no è la madonna del carmelo è la madonna del carmelo nell'altra live non c'ero io no in un'altra live stai parlando di lei ok qui c'era lei la stava cantando lei si ma roba state calmo simbi lo stalker madonna cara grazie al cazzo c'hai più erba che neuroni madonna santa io voglio più cani di lui ma la mia memoria è fantastica cosa vuoi dare questa me la segno questa la racconterò mio figlio c'hai più erba che neuroni questa me la è bellissima vabbè citazione di uno che ha tre cromosomi in più allora io ne ho uno in più e mamma dice che sono speciale no c'hanno i tre e quindi sei normale no la luna era lei solo lei citazione robo eh figa si ma sembra un figa di stalker allora cos'è scusa quando io canterò robo cos'è dice oh mio dio è lui che ha la voce di me merita io all'inizio appena sentito ho detto aspetta ho perduto i italiani farò via cos'è quel ok la botola è chiusa la botola è chiusa io dove sono ma già sei entrato no oh tu madre ah na 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 stronzo zitto dei salsito che lancio una trave in testa ragazzi dov'è l'obiettivo ah ok hanno chiuso tutto sto facendo la botola qualcuno mi fa io devo andare in trofei tu a rompere ah eh buongiorno grazie come faccio andare in trofei a rompere se occhio ce n'è uno qua raga ce n'è uno qua c'è un frost posso entrare in qua c'è un frost ma io posso entrare in trofei o c'è qualcuno trovato c'è qualcuno aspetta cosa mi è stato lanciato ecco si ma robotaci madonna santa c'è la trappola di frost la finestra è qua eh scusa ho capito maxi 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 ce n'erano due ce n'erano due grazie grazie fantino ci sono passato due secondi fa la due secondi fa ragazzo l'interimento c'è alibi ah no sta sotto scherzando dove sei dove sei dove sei arrivo 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 and we are the champion my friend oh papun 2 che faccio mobile cremo sta morendo niente ora se la cercano lei aspetta aspetta vai 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 no no ah ma faffanculo lesion qui lesion qui lesion qui lesion qui le un nemico bella assist sta qui sta qui lo sta spottando dove 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 la becca piena la becca dentro dentro l'obiettivo non l'ha beccata non l'ha beccata rimangono 10 secondi ancora lì si sta lì lì 5 secondi non l'ho visto cioè continuo a morire a cazzo di cane ragazzi veramente la trappola del cazzo anche due secondi prima non è cioè non l'ho visto sono un coglione di merda ma adesso ho un po' concentrati basta che ora io qui bersieme perché sai se hai 8 non si fa vedere ma lui sei adesso cioè oh l'unico robbo stai zitto è lei zitto hai rotto il cazzo robbo hai rotto il cazzo basta sta zitto minchia lo muto adesso se vuoi lo butto fuori da parte buttalo buttalo fuori non mi sento bene raga bravo robbo mi è stato ordinato ti voglio bene un giorno ci faremo no marxie che tue palle madonna dove sei? no però mi rimuove dagli amici oh la senti mo ma zonna madonna lo senti? io sono io bene ero la dover della libertà puttana eva però questa povera ragazza si stava spaventando eh ma dio santo ragazzi cioè è come avere tipo psycho che ti guarda e dice non ne vuoi un'altra di fette di torta ci deve spaventare raga e forse stavolta vinciamo perché sono due una bella la motola scusate no 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 aprite le porte guarda dai 4x4 ce la possiamo fare ma fortnite non si scarica mai qui mi fa cagare il cazzo fortnite se te nella vita reale in guerra riesci a tirarti fuori una staccionata dal culo chiamami si appunto non ti tiri fuori le staccionate dal culo ma infatti sulla descrizione non c'è scritto gioco realistico dove puoi fare cose solamente realistiche c'è un twitch no non era un twitch fatto la cagata adesso l'ho lotto si c'è il drone di twitch raga si ma io ho colpito c'è un blitz c'è un blitz è fuori da trofei dai possiamo farci non c'è solo il blitz non ha già lui aiuto si costa esattamente la situazione è quella no rea per quanto non ho ucciso aia la mia zitto ricarico Buono no? Non è un'altra medicina? Non è carico Ne ho uno qua che sale Dai Bella Chuck Norris è andato Hanno dato resa? Hanno dato resa? Ho visto maxi step che va in positiva No Pari che cazzo è sta nota? Sì potete dire Va bene così Il cap can ti ha tradito Non è il trigger di Frost Ma cazzo ti ricordi Genji sul gatto Ho mando scendere Vediamo con le pappere Sì sì Cerca un'altra Prima però invita Roberto Se non fa Allora vedi che sei un uomo tronzo Cioè fatto odie Se non fa Che poi ce ne cerca un'altra No no invita E come lo invito Devo uscire dal party E lo dovete invitare nel party No spera Desci tu Nonì Io adesso esco Però voi dovete invitare Rob E una volta che entra Rob O me lo dite Eh succede Mauri Noi incontriamo sempre di BM Allora Allora Havana Un no Eh Havana Sì Ok fermi Invitate Rob e fatemi entrare Bitches Anzi mette un party Ma tu sei una bitches Io sì Tu no Lui è un little baby Che è diverso Io sono un bici Un film bello Che è l'host sono io Ma come faccio ad essere sempre io l'host Vabbè Erano anche due tre ore dopo Sì l'idea superata È il 5 del maio Andale Adale È il 5 del maio Yeah Frost ho incontrato di BM in classificata Grazie a loro abbiamo perso Noi ce l'abbiamo sempre In che squadra di BM Allora Sono in rank 3 a 1 Come andrà a finire secondo te Secondo me vinci Io sono in BM Come andrà a finire Bomber 33 È diventato un ghiacciolo Ciao Bomber Ma tu mi dici Diventa prima Roberto Poi io entri Francesco Longo Chi è costui? Basta riasco Mi spiace Ma devo fare Bravo cazzo Fai il tuo lavoro Mi spiace veramente Non faccio apposta E gli ho detto Se volete essere di BM Andati libera Ma non rompete la gente In classificata Ma guarda Fuori 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 Ma scusatemi Ma per favore Non siamo in un'erbolisteria Ma la luna? Ma scusatemi però Non c'è un ingegno Non so Sono in Muscatemi Fuori fuori Po' ci sono i pro player Che quando li guardi Fanno 15-2 E poi giocano con te Fanno 0 A te pensi Noni o scinderò Noni? Noni? Non è che no, non è che noni 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 Minchia speriamo Ma è vero che tu sarai la toccatrice della ragazza italiana? No No Roby Roby fa una cosa Io ti dono dei soldi però tu mi devi fare Mi devi scrivere il doppiaggio per ReadyOrNot Ok Perché io non ce la faccio io Ma ancora mi devono... Cioè mi hanno contattato Il problema è che non ho il blu yet Ah Quindi vogliono che... Nel senso Le altre frasi si devono fare con blu yeti Quindi sto aspettando C'è un po' di money per fare... Per comprare blu yeti Mmm Mettici una buona parola allora Quindi sì comunque ti... Ti do... Ti mando le... le frasi se... se puoi... vuoi Sì sì va bene Così almeno La minonna quando l'ha sentita per la prima volta ha capito Nonni Uscendi al succo No Dopo Fight For Honor Prendi lo Shugoku E usa e... E urla Nani Nani Lo conoscete? Lo conoscete? No Ok lo vado a escitare Boni fermi tutti Ma sì mi spieghi Una cosa... no ma... è il boscaiolo, è il panino di youtube oggi vi presento due panini questo è il boscaiolo è presposto nel panino e l'altro non mi ricordo questo è un panino che ti fa accettare in mezzo alla gente ragazzi vi faccio uno spoiler abbastanza godurioso mi sentirete cantare anche a me è vero, è vero, è vero io in quel momento avrò paura però dai, allora, ho scoperto che c'è già la canzone in italiano ah sì? io ho già paura però ve la posso far sentire? sì sì guarda su frost guarda su whatsapp robo foto allora quella italiana ma robo, tu stai male tu stai male tu stai male tu stai male ma è acceso va acceso vabbè sì ma fate entrare Roberto no, devo ancora finire di scherigare quando la vittoria è lì vicina e lì mi è andata no, sta perplessa no, vai, vai, dai senza offesa canto meglio eh, appunto la rifacciamo, prego per favore rifacciamola senza offesa cantamela ora adesso dai, facciamo le palle io voglio sentire una sola canzone ah, io ti dico io sono ex cantante di un gruppo metal per i nostri no, la puoi sentire a sta parte per favore senza vomitare? su, ti dico ma ragà ma è tipo Klicius quando fa l'autotune di Francesco ma non c'è l'autotune perché non gliel'hanno messo? infatti vabbè ragà Maxi, ascolta cerca perché tanto qua pigliamo arabi però deve entrare o no non entra è lì al calduccio sto al calduccio io shindeiru mandeo shindeiru è arrivato questo tanto non interroga io voglio fare io sono la premia allora cazzo tu mi devi fare Genji io? eh sì ma prego ma io sono toporino te che cazzo senti torna in Walt Disney allora Walt Disney mi ha stuprato quando ero piccolo per questo ho questa voce perché sono traumatizzato poi si sente Frost cantare buonanotte buonanotte fiorellino buonanotte buonanotte e questo è il fiore del partigiano tipo l'altra sera tipo l'altra sera quando c'era la luna che diceva la frase di mira e di sombra e io di continuo la straccevo a scalappa las duces che è una cosa che diceva ah sì abbagando las luces è una cosa religione tipo apagandos las luces e io invece dicevo apagandos los duches e c'era la casa che stava crepando così mi è venuta in mente quella troia di sombra che fa su e giù sopra un candelabro hanno spento la luce perché se tu ci pensi luces ti viene luce candela candelabro è troppo kawaii cosa io no 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 non mi parlare di anni sono sbratto fino a domani tipo quando tipo quando parla Robby mi sembra hai presente hai presente Robby ce la chiami a tua sorella Zitti ma non Robby no non hai capito Robby si chiama Robert Alibi lo chiamo Robby lei a te ti chiamo drogato Robè te ti chiamo è arrivato Joker comunque ti stavo dicendo hai presente il meme della ragazza che fa ragazzi io non la vado a salutare ha vinto ma che io la vado a salutare c'era pure in gioco dai Maxi Maxi andiamo al nostro modo ho sbagliato ce l'esci è proprio così ce l'hai sparato buona sega buona sega si 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 se quante sega se 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 overwatch fap zone se 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 vai vieni anche tu in live dai brains in game si bravo vai condizioni non te ne pentirai posso fare pubblicità ma la madonna veramente guarda sembrava più un barattolo si è in cerca di bacon allora il posto per te brains and games sembra tipo sembra tipo un barattolo di fagioli però grazie no ma questa era veramente la tua voce si raggiungetelo ma porco dio ragazzi sembra pubblicità complimenti delicatissimo come sempre fanta senti no senti mi fai un annuncio questo annuncio allora sia vita la gentile clientela che la madre di Maxi è una troia sulla tuscolana non lo so qualcosa basta che aggiungi qualcosa dopo ti abbi ok fammi pensare oh ciao hai ucciso tremor hai ucciso tremor ho preso anche ok questo è per il mute no rega mute no c'è il prossimo inferimento rega gli ho tirato due cose di ascia fanta c'è lì non mi spiego come fanno a dire con le cose minutissime c'è il prossimo inferimento dietro vado dietro fanta vuole suscitarsi ragazzi solo per fare il drone no oddio fitta no ma c'è un mira no scimmia scimmia attività nemica eh non ho scimmia così fare è brutto che gli hai dato della scena c'è che c'è un fucino a pompa frost no cazzo c'è un mirino la laser merda mi sono dimenticato di toglierlo però che fa le metto tutti i peli neri tanto il giro forse non te lo posso una faccia sta a libidi là dalle altre strade per un pelo per un pelo pubblico già pubblico pubblico ecco bella ti ricordo che hai due granate ancora qui davanti a te frost dovrebbe essere qua oh ma guai scinderu nani bella bella sta qui ho triggerato un mirino mi manca pure mute come sai a sinistra mute è alibi lì davanti prova la granata se lo fai di granata ti sposo veramente quella è frost e vabbè ma quando è il matrimonio merda e no non era mio qui a sinistra addio si è lì è lì attività nemica neutro però inversione cazzo ragazzi tutto perché io metto inferimento però sto sparandogli in testa però è fantastico allora micitacco ti triggerò malissimo 71 di ping aspetta 64 di ping contro 16 perché cazzo mi hai visto prima la madonna è brutto il tuo marito non si dice cazzo vabbè comunque non lo so il matrimonio mi devi di tu quando lo facciamo mi avvisa la gentile anzi no mi avvisa la gentile che la mamma scusa fai stavoce per favore no no ma possiamo tornare in chat di party giusto così io non sento un cazzo qua ok zitti ah mentre faceva l'annuncio stronzo ma scusate no no puoi fare la tua voce d'annuncio scusa stava facendo l'annuncio l'avete bloccato aveva fatto pure pupu ho fatto pure la campanella che è tu no no puoi però non mi ricordo cosa dovevo dire si avvisa la gentile clientela qualsiasi cosa qualsiasi cosa che la mamma del bambino che piace nel settore dei pesci dei surgelati si avvisa la gentile clientela no questa è la tizia della nave la tizia della nave 10 secondi si avvisa la gentile clientela che il capitano schiettino ha abbandonato la nave si prega di mettere un giubbotto il giubbotto antiproiettili sulla nave ci può essere ma ti immagini la scena sulla nave si avvisa la crociera che schiettino ha abbandonato la nave poi ci prezzo e fa oh ma porco quindi fros servirebbe la cosa di helios della voce alla stazione di napoli centro dica ce l'ho qua no è cazza che fa la stazione di napoli centrale ah cazza cazza no no ragazzi cazza stanno tutti qua stanno tutti qua da me è furbi allontanarsi dalla linea gialla il treno di napoli centrale fanta cornetto c'è termite iban ah beh un drone stordente invece no te lo devi no no regà non è vero era pure cazzo drogata quella merda era pure cazzo drogata era pure cazzo drogata termite e link è dietro ce l'hai qui alibi sotto o aveva o la ma regà ma del cazzo è l'obiettivo stai zitto ah lì no dai dietro dal buchetto c4 no 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 mi sono auto ucciso e vabbè no zitto io sto zitto sono tirato un c4 addosso sto zitto ciao ciao no regà aspetta l'abilità va bene va bene ercoatto sei italiano vero? ce la diede no sta sotto sta sotto ok questa te la concedo comunque regà io non riesco a capire MichiTac come fa a scottare e a spostarsi con la mira così velocemente sotto gli effetti collatorali della mina a concussione si un po' effettivamente ha chiavato il cazzo rainbow però c'ho la squadra su rainbow quindi ok adesso facciamo uno per sempre a parte una ascia mia aspetta come facevamo? no io prendo il buck ah è vero ecco quando facciamo uno come sempre io riprendo quello che si userebbe meglio ti pare termite bada va bene ma devo di più ah ma merda ma sono sopra eh infatti eh perché poi ho detto botola non lo so però mi saluti per favore rifaccio la domanda per chi io non ho sentito con le cuffie niente frasso comunque non lo possiamo fare perché non te neudi non apriamo ti saluta Mauri ciao Mauri ad alibi se goto fammi il drone testa di cazzo me lo zucchi tutto si si tranqui voglio fare il mio drone sempre secondo me comunque stanno gottando si si anche secondo me anche secondo me da dio soprattutto ercoato l'unica kill che me l'ha fatta me l'ha fatta i wallbang troppo tranquillo ti avviso la gentile pientela che il cacca non è nei vincordi di armeria raggiungete il contente di più rischio di perdita si è arrivato un po' tardi il iq è sempre avuto un culo della madonna fino alla prima stagione si è in culo veramente come forse i doppi abbi senza sangue contando che iq è pallevisamente memphis more roma ok aspetta e la madonna cazzo sotto granata sponda ok questi qua mi stanno mi stanno gustando ok che tu guardi qua io guardo qua chi t'ha fatto la vigile nella stanza armeria stanza armeria no vabbè raga dai ragazzi perché mi stanno scrivendo perché mi hai espulso ragazzi lo mi hai espulso complimenti al gioco veramente complimenti vabbè io non ho parole di quanto si è fatto male adesso mi lascio giù perché sa che guarda no ok becco non arrivo ok bella bravo Maxi non c'è ne siamo fatti tre così ma io da un lato però non ti arrabbiare per favore buono 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 io mi cazzo quando mi fa hai capito soprattutto se non ti manda ma io io mi ricordo attenzione Roberto è diventata peggio di una dea peggio di una dea per la fama che stai discutendo ma che ogni volta pensa a stare a me sono un deficiente ma anch'io mi sono chiesto stavo parlando con me stavo stavendo un cazzo ma Maxi che dubbi ha detto al panettieri ha detto al panettieri ha detto al panettieri spendite la stanza cosa ce l'ho fatto io ti ho trovato in quel periodo la depressione ti sto uccidendo Frost a voglia però pensa che hai un computer che ho saputo tutta la tua casa messa insieme cos'è che ho? che hai un computer che ho saputo tutta la tua casa messa insieme eh vabbè ma non l'ho manco comprato io puttana Eva non c'ho neanche la soddisfazione stai zitto nel dubbio vabbè ce l'hai? è tuo? basta eh sì se tu te stessi ti hanno inizi il positivo è in posizione niente 10 secondi grazie ah 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 fregna per me c'è un 5 secondi si e Frost erano bellissimi i 400 spettatori non ce la faccio troppi ricordi ok basta momento Giacomino ha terminato oddio no no bacon scimmia no 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 bacon scimmia non non crashare d'idificio per favore d'idificio per favore d'idificio per favore ho fortificato il muro chissà perché sanno che sono qua chissà perché sanno che sono qua chissà perché sanno che sono qua mina concussione si entrati lì pulciano là dietro da sotto sempre no grazie sofferta da telecom non mi interessa quindi servizio di segreteria telefonica attenzione oh dimmi luna che viene che così almeno se abbiamo il quinto oddio come l'ho detto era bruttissima io 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 panta ci controllo io qua dai no no c'è il drone c'è il drone ok tu protterò lì allora prenderlo d'acqua dai oddio stanno a prendo il drone è preso no sto qua mi fa wallbang come prima madonna ahi ying da qua maxi occhio si trappola trappola ho preso ho preso due a destra che ne hai e uno due a stare alb ok quella era falsa sono tutti qua sono tutti qua merda non correre dietro fanta fanta tutti dietro raga boni che fanta sta afflancando resistete attirateli tutti voi non correre fanta beh rossi dai ho con l'MP7 dai madonna quanti ok ok devo fare una cosa tattica sei sdraiata c'hai davanti fanta di assinistra no merda ma ha pushato Chissà, guarda No, tutto e due Non mi ho sentito, raga No, porca Minchia, se ce la facevi ce l'avevo già pronti 5 euro Paypal No, comunque sti qua Mi puzzano tantissimo, Maxi Ma giocano proprio una merda No, non in quel senso Sì, pure quello, figlio Ragazzi, ho 28 minuti E ho finito l'installazione Sì, ma anche se non me lo dici In questo modo, così In senso, così Molto accattivante, molto attizzacazzi Qualcosa per l'opera No, per niente Ormai ti banna qualcosa Io lo so che ho una muscia attizzacazzi Frossa, non me lo devi dire Ho fatto una catena Ho fatto una catena Perché c'è una canzone che si chiama Alibi? È di Vasco Rosso Allora, Mauri, 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 Mauri Sì, l'avevo letto Te l'ho salutata Ciao Ciao Blur a me piace come ragiona È quello che dice Peccato che li esprime in video idioti King delle bestemmie Però, Lord, ci spiega una cosa Ci sono varie tipologie di vista Nel senso C'è chi è altro C'è chi è cristiano C'è chi è protestante C'è un Qualsiasi persona può vederla in modo diversa Però, secondo me Blur è una di quelle persone Che rende YouTube Italia migliore Perché? Perché fa le cose come vuole lui E non si nasconde dietro una maschera C'è, se lui bestemmia la mattina sera Bestemmia la mattina sera C'è Oddio Oddio In un video ha detto Quasi 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 il contrario Vabbè Vabbè Io non voglio essere effettivo Lui sto zitto E do ragione a forza Ma io ho detto la mia Ho detto la mia La mia visione Vabbè No, è quello che ha detto lui altro Però si cazzo è stata in classificata Sì Maxi Una biglia Una visita Maxi quanti anni hai? Io L'età mia Quanti? 16 Ecco Sei troppo piccolo Lo sai Panta Panta Guarda la finestra dietro Guarda la finestra dietro Guarda la finestra dietro Guarda la finestra dietro Dimmi se posso entrare Va lì Chi c'è qua dentro? Vabbè C'è qua dentro? andiamo chi è il termite? vanta vieni vanta vieni eh e bene Oh ma guarda chissà perché soffraggia che stavo arrivando stanno un po rompendo il cazzo sti qua raga qualcuno deve entrare la finestra no l'ho ucciso io scusami cristo bello eh ciao c'è il cap cance il cap cance lo so che c'è il cap però eccolo no era dietro puttana merda puttana dai dai fatti il figo fatti il figo ma allora sei russo perché non vai giocare nei server di cernobil porco che palle era vinta era vinta sbagliato io puttana merda no figa christian madonna santa ma mi hanno dato sei messaggi porca puttana ci abbiamo già il quinto se vedi che non risponde una volta se ne vedi due se vedi tre cristo che palle una domanda darevi quando finire tutto abbiamo finito vai vai ah gta tu lo hai si ma non ci gioca da una no ok che palle perde le per colpa mia si lord era per dire ma c'è lord sì sì non so se il mio lord o il tuo lord perché ne ho uno anch'io a me 17 minuti ti è fatta mancano riusciamo a farne in arte ovvio ti stai scaricando rainbow adesso tipo ti stai scaricando rainbow oh che palle eh io sì ciao sì mi sa che il mio lord sì mi sa che il suo c'è anche alessio che è sempre il tuo ciao alessio ciao gioele ciao lord sì sono io porca vacca di vacca porca che bello comunque adesso devo decidere il primo o poi lo faremo un end break qualcosa tutti assieme per parlare per dire due cazzate più che altro per parlare te prego falli webcam è ovvio vuoi che lo faccio l'end break col mio culo dimmi ti al contrario sulla sedia eh sì poi apro le chiappe tipo esventura bentornati ragazzi in una nuova live ah bella questa mappa scusate per l'idiazione e l'ignoranza che mi provadono ma scusa chi cavolo mi dice a che punto siete del top clan benvenuti nella mappa di Boston di Arjun benvenuti the gamer ciao porca vacca di porca vacca dicono prost usa cavera cavera vabbè in attacco e niente la mia vita è perfetta perchè? ho ricevuto il curicino dalla fidanzala di Phanapton da Vanille? da Vanille e ti giuro sono felicissimo boh c'è boh lord Pyrox puoi ripaltare completamente la situazione non mi riferivo a te ma in generale alle persone brutta ah capito adesso le persone sono brutte cose tipo i cavalli ma i cavalli non sono si dai la puntata di American Dead oh ragà c'è un Capcom selvaggio puttana Eva non vedo le telecamere perdono 10 secondi scusa io devo conoscere Vanille ma non mi interessa un cazzo felicità hai sentito Vanille? vai forse dovresti conoscerla boh oddio no dai mo dimmi che non è una tra le migliori ragazze sopra Youtube Italia io ne conosco una migliore luna ovvio dovresti dire dovresti dire no nel senso cioè ci sta però nel senso ci sta va Vanille massimo rispetto ma che porta? GTA è in livello competitivo ci sono anche io livello competitivo sì lo so è strano dire competitivo attaccato a GTA ma esiste ma sti Capcom ve li ficcate un po' nel culo non tu sai GTA competitivo? GTA tipo è cala è arrestante cosa? tipo ESL boh non è non c'è l'ESL non ti preoccupare oddio mio ma io ho capito che è sto qua madonna è quello che rompeva i coglioni ragà me ne sono accorto adesso ma vi ricordate quelli che sono entrati in party? ma chi? li cacciavamo contro no? è sta rompendo i coglioni lui non è qua rosicone sì sì continua pure c'è anche il live coglione no la situazione è vecchia ma si vai te maxi io credo avanti fermo 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 sai evitare Peter Griffin non credo non è una cosa che dice quella volta che no raga sopra sopra eh sì tardi tardi due ce ne sono tardi tardi pure è passato attraverso bello più coppia in testa che non arriva dai uscite fuori non volete la kill perfetto uno oddio c'è l'altro oddio c'è l'altro quanto sei fatto? infatti perché è il silenzio per l'obiettivo perché ormai non so più che cazzo di cannosare su sto gioco di merda allora ho il silenzio lo sai rompiti hai il compensatore mi sembra che mi sminchi i colpi chissà dove vabbè io qua ho perso perché 29 di vita salve che palle io non so contrastare ogni volta che vedo blip cerco di fare amicizia con lui perché non riesco a farlo 5 secondi vabbè dai vieti appena la kill dai su c'ho dietro no è dentro va bene costa tranquillo peccato me ne avevano fatti due vabbè oh che carino gioco ciao diviners madonna però robo sei sempre esagerato qu'ho fatto io ora minchia sembi una fighetta che vede il fanboy porco dia ma io sono fanboy tu forse non hai capito se io vedo fanapton io gesù cristo svengo ma perché ho fisso in un laboratorio tu non lo sai minimamente frost tu cosa ne sai io cosa ne so c'hai ragione non c'è un cazzo c'è gente che si viene per favij vabbè ma quella lì è gente che non ha non ha gli spermatozoi ancora si ma dai no dia ma repressi vabbè allora un conto sono io che guardo un 36enne bello come fare e muoio però io amo fanapton ecco io se vengo vedendo una macchina però ecco pari a con l'altro tu lo ficchieresti nel tuo questo gioco è iniziato con l'intento di essere reale poi vediamo effettivamente è stato così ma effettivamente allora c'è un'idea fantastica mettiamo questo gioco prendendo un titolo fighissimo nel vecchio stampo tipo rainbow six ecco perfetto e poi lo lanciamo sul mercato e poi vediamo cioè in senso come va poi vediamo rainbow six morirà all'uscita di ridi or not per console cioè o che c'è sono stato sono stato il primo a dirlo in Italia spero di spero che mi riconosceranno la cosa almeno quando sarò morto ma deve uscire ridi or not e devono prendere le nostre voci bofrost eh magari pendeo de mierda eh merda polizia ti vedo come fornatore di serie B a te come doppiatore di boberi spagnoli beh almeno almeno per i eh per gli entai ci ho anche fatto no no quello no in che senso l'hai già fatto l'ho già fatto no doppiare gli anime non gli entai merda qua io ho doppiato Gavrino da porca mi è un entai o cosa cos'hai detto no non è un entai un attimo un attimo mamma mia vizzeria io in campo di anime non ci capisco un cazzo perché mi fanno di schifo sono un ratista Gesù no mi fa cagare fortnite ma tu sei davvero grande ma tu sei davvero com'è che non conoscete questa canzone io stavo chiudendo la ti cago dentro le mutande faceva rima dai oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Vabbè Vabbè Trosta lo sai che io ti voglio bene Ti vorrei toccare la barba Ma sono tagliata la barba Ma come? Ce l'hai ancora? L'ho vista in live Bugiardo Ce l'hai la barba? La sono tagliata prima che mio padre Ha cominciato a minacciarmi Con l'usa eccetera L'ho detto vabbè ma la taglia Il mio clan che dico Proprio vuole gare al cazzo Perchè Frost l'operatore Usa lo sniper 90 Eh? Eh? Il super 90 usa Non lo sniper 90 Bravo Maxi Colpi a culo fanno sempre bravissimo Oh Dio Maxi 10 secondi Porco è Dio porco Dai raga ma non è possibile Ma la madonna c'ha un palo di metallo nel culo veramente Esatto proprio dentro Intrinso E' incredibile Senza dubbiamente Senza dubbiamente Ce ne fosse uno che sparava a Fanta Ma non perchè Fanta eh Non conoscete la leggenda dello sniper 90 Sì Io ti dico solo che agli inizi Il mio operatore preferito Era il Frost per il fucile a pompa Io lo usavo quando C'aveva il C4 ancora Che ti shottava in fondo ai corridoi Non c'aveva il ciclo Qua dici boi o boi o boi Adoro te satana Ponte dell'aria Vabbè raga senti cosa sta eh Satana 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 Mi ricorda qualcosa Mi fai non conoscerlo E' quella di come si chiama Quello che canta Gesù 3 Ah si Ho capito adesso Però veramente Quello Gesù Gesù Ma non sei davvero Le 23 Andiamo a suonare I campanelli I fitofoni delle cavi Andiamo a suonare Dopo andiamo su overwatch Sì Lo ha detto Lo ha detto Andiamo a suonare L'ho detto Se dopo non vieni Ma è tutto a merito di alibi Se andiamo su overwatch Sì Perché Il problema Sostanziale E' che io non riesco a giocare ad overwatch Per i comandi Mi trovo malissimo Comunque posso dirmi una cosa Sì Dimmi Io odio TeamSpeak E la gente che ci sta Tra cui il mio clan Ma perché TeamSpeak? C'è Discord Che magico Discord? Lo so Vedi qualcuno che ne capisce Perché loro sono rimasti un po' indietro Grandissima TeamSpeak Che devi usare il prompt Tra poco Per entrare in un coso No ma tu non puoi capire E io Mi scopo Panta Tu sei lo scudato In teoria Ah Perché era il telefono Perché Beh Beh Occhio lì Occhio lì Lo incrocio Minchia ma Max è già qua No 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 vedi vedi però Ma che cazzo Un attimo città Ho buttato tantissimo Tipo tantissimo Un'ora ho chiesto di Renzo che stavo pushando Niente I discorsi partono No vabbè raga Si è buggato No come si chiama? Castle? Nel muro Come nel muro? Come nel muro? Si Ma ha sparato dal muro Dentro il muro No 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 Era dentro il muro Lui No Oh dov'è? Attenta attenta arriva arriva Da qua da qua G what? Vabbè da Scusate Ah sì Cazzo non ci appaga vita Perché devo sempre rimanere da solo che la perdiamo? Prova Ah Prova Buono Eh ma il problema è uno maxi Non ho cariche di ruzio Era in fondo Io non ho mai fatto rank ed su over What's a giallo? Voglio fare le rank ed su over A voglia la voglio fare anch'io No madonna mi che smirata il cazzo E questa no No di fianco Un colpo Un colpo Sono difensore rimasto Ma è che mi fa giro da dietro Ma è che mi fa giro da dietro? Ottenete il contenitore Lasciate il contenitore Non è morta Vabbè io non ho parole Io non ho parole però Oddio ho visto malissimo quella coprella Che palle Vada vada completamente a minchia Vai Dio Dai dopo questo andiamo su overwatch Ci cambiamo tutti Sì sì C'è un aggiornamento Come c'è un aggiornamento di overwatch? Beh è un giga Ce l'hai fordano a rally B2? No Comunque me l'avrebbe avviato da solo l'aggiornamento Non è vero che c'è l'aggiornamento Ma non ha fatto un aggiornamento adesso Magari non lo abbi da tanto tempo Tolgono un glitch e mettono 10 che bel modo di fare Frostero in partita in grattaceo stavo perdendo 0-3 ma poi la rimonto e vinto 5-4 bravo Luna Io porco Mi risparmio sti cazzo di soldi Luna dopo andiamo su overwatch Sta a sentire? Andiamo su overwatch No devo essere in fotta tremenda perchè quando non c'ho proprio la testa Comunque Cosa? Cosa? Cosa per rinascere su overwatch? Junkrat Junkrat e Pharah Vod come cazzo ti chiamano la torretta? non mi viene bastion bastion vedi perchè la devo sposare? perchè i commerci facciamo il panico ora mi ristallo luna mi calmi i roba e maxi che ce la voglio sposare tutti e due sti qua ah ma io me la sposo è questa mia basta lascava sluce dai luna adesso si non come prima grazie la candola sluce questo sta qua questo sta qua porco i mannaggiano guarda guarda hanno uno qua nel corridoio lì c'è Ivana qua dove? dove ce l'ho? a 10 perchè l'ho sentita? però nel corridoio non era Ivana ciao ciao c'è pure c'è il banner qui a destra stanno tutti da raga tutti what the fuck? no raga una mano affasso ci sta andando brava vabbè vabbè più rompi i coglioni l'ho tolto di maso due sono qua raga guarda quanto è da gioco eh sta qui il toucher con il corridoio bagno e Ivana è vicino a lui destra ce l'hai albi ci dovrebbe essere anche qui caricatore toucher morto bella cancena civile torniamo dentro mhm ricarico che amperiamocela non si sa mai questo diventa un pro cosa? corridoio? si da dietro di metal cosa dei droni ah ok eccola dove? scontata c'è l'idea bagno oh ok c'è la granata magari c'è ancora l'altra c'è l'altra pantalon pantalon te lo cercare questo qua non è non è un troia c'è davanti cioè lo è ma quindici vaffanbrocco voglio fare qualcosa eh adesso ti stupro madonna il culo ok io manca il tempo di vedi il bana che gioco è la mozione io ho rapato malissimo il culo eh vabbè 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 dopo questo io prendo dai luna prometto che poi torniamo anche su farone lo sto aggiornando mazi quindi c'è un aggiornamento vabbè non è partito nulla aspetta un attimo forse tolgono una cosa della ribellione della raga chi prende dai quello che si usa è meglio sempre la solita risposta andiamo con finca dai e rimango dietro così in casa mangia c'è qualche ferita merda non mi era partito l'aggiornamento porca merda è meno di un giga tranquillo eh ma infatti costa stiamo parlando di quello ma è ovvio che non hanno cambiato niente sto aggiornamento però vanno ad andare su over c'è fare verifica di aggiornamento eh quello che è eh benvenuti addio porca eh no volevo dire si si venezia comunque questo gioco andava bene quando c'era il tickerate a 50 quando hanno messo il tickerate a 60 non riesci neanche più a vederli era meglio quando si stava aperto nuovo caricatore nuovo caricatore esiste davvero questa mappa però non sta in città ragazzi che ci basse il capcan non l'ho visto bene col drone perdono c'è uno che ha chiuso aspetta aspetta ali scale nada oh oh jager jager treni jager treni arrivo anch'io arrivo anch'io madonna va in treni ancora? no l'ho chiuso bravo ma non ci credo che sta lì però non basta cavirà cavirà qua dietro ragazzi cavirà qua dietro 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 occhio treni a sinistra c'è smoke e non avete ancora fatto cavirà però qui a sinistra forse si è spostato giusto ma che arrivi qualcuno non è che c'era qualcuno qui ragazzi c'è qui c'è lo sport lo smoke eccolo lì a sinistra se n'è andato verso i treni ok io sento vuoi sapere cavirà cavirà gale capirà dove è il cavirà minchia arriva da te prossimo dietro sicuro? guarda è in teoria ci sei io qua sei intelligente o sì ansia cavirà e smutte stanno in treno ce n'era uno su scale no più niente ma è vero quarta ma è la larga ho sentita è già salita sta zoldre c'è capa andiata vabbè madonna stanno in due, sto per il smoke non posso sparare, non posso sparare! ok stanno in due all'accavizzo dove erano Fanta? stanno tutte da più allora aspetta Maxi, aspetta Frost c'è un drone, aspetta Fanta, hai dell'energia? si è l'unica Fanta, Fanta, il potere? eh vabbè niente, drop shot claim shram è andata dai tanto è finita sta cazzo di stagione di merda platinone, vaffanculo stanno, secondo me dove stai arrivarci? non ti muovi male come mando io l'amicizia? ah già, aspetta no no butto fuori i tre persone allora mi si carica neanche la lista amici mi carica neanche la lista amici vuoi cambiarmelo adesso? eh no no vado a che chiudo Rainbow ah poi ma sono i due a me? eh attento aspetta mi invito a tutti guarda quanto ci mette off impossibile richiesta hai troppo amici, troppe richieste tre minuti 117 secondi ce l'ho, ce l'ho ok ciao Lumina, ciao Robo, ciao Fanta ciao Fanta, ciao Quanta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti questo fa bloccare questo Cristian devo trovare uno antipatico e toglia proprio la lista così a pelle io io eliminerei questo mi piace la quarta persona in basso fai quattro volte giù per me eh raga è ovvio che lo sfondo è figo io sto giocando a Fortnite quindi posso cancellarlo ti stanno simpatici quelli che giocano a Fortnite mi dicono? tantissimi ma io non mi ricordo neanche giocare io gioco io sto giocando pure io ma io pure si so con gli iscritti ma non che mi piace comunque l'ho tolto un po' non è un mio fan Valtix vabbè devo uscire da Rainbow e aprire Overwatch si copia in corso 30% che palle come no? cazzo non viene a giocare l'Overwatch io sono entrata dicendo a me perché lui è educato lui mi dà la buona notte ah buonanotte Maxi ho chiesto il panettiere adesso che palle sta donna mia sta copia di merda bello no ecco a me non ero partito vabbè no devo dire che non vuoi ci installare vanno i luci si infatti è già in copia in corso ma questo cazzo sta verifrando stalkerismo di gruppo verso Roberta ma è normale è una donna non è una donna non la voglio non riesco a inviarvela manco io che palle ma perché c'è sta copia di merda aspettate ti giuro che avevo letto Maurizio Merluzzi che cosa buongiorno ma io cosa ma io c'ho 35 giga di video di Rainbow sulla Play aspetta aspetta hai due giochi praticamente aspetta tu hai 30 giga su Rainbow? c'è ecco allora 125 giga di postmet bravo Lord 5 gigabyte di Overwatch dai ragazzi mentre aspettiamo che mi si copia quel cazzo di Overwatch vi faccio vedere l'arte di God of War quindi l'artwork di God of War ma buona notte di God of War dai alcuni vuoi dare God of War mh? cosa? allora vediamo un po' vi faccio vedere la live ah no 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 fe 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 bravo Alessio bravo Alessio è capito tutto stavolta non mi inculano perché se io faccio vedere l'artwork in live mi bloccano la live quindi col cazzo che lo faccio vai a cosa che ti fanno vedere? non ho capito no ho l'artwork digitale di God of War dalla Collector Edition solo che se lo faccio vedere mi bloccano la live tipo io ieri che ho praticamente messo la musica di Nightwot perché cazzo penso che fai le stream poi metti la musica di Nightwot non ti bloccano per copyright invece si infamoni che non sono altro ma hanno bloccato la live sì 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 beh intanto ci godiamo la musica ragazzi volete fare due domande intanto ovviamente sono andati via tutti perché non si porta più Rainbow allora Rainbow Six sì sì sìiano non è a jordan metti Overwatch ah Overwatch cosa è Conan Exile cos'è sta roba? Conan Exile si bojio non è così bello stai di casa Ma che è tipo, ma non è un gioco online? Si è un MMOFORG come lo chiamo io Ma è un open world però non è online, cioè nel senso è single player E' nell'universo di Conan, però è tipo Ark tipo Come gioco Bloodborne l'hai giocato te? Si ma non mi ha fatto in gioco, cioè nel senso Dark Souls e poi Non sento più Frost Ci sono Luna, amore della vita, sono qua Il mio è l'automata che è praticamente a 30 euro Beh per vedere delle chiappe con una katana tutto il tempo secondo me gli vale Lo sento in fondo a un tunnel Frost, perché? Bostra Io c'ho C'è il Far Cry che ha il provo, io non so se prenderlo ma do Far Cry 5? È stupendo Però è bella roba, sì, infatti C'è Free Day Io però non lo sento più Vedete, mi state chiedendo se porterò mai GTA 5 sul PC Guardate io cosa c'ho qua La confezione di GTA per il PC Non l'ho ancora risolata E mi chiede rientro nel parco Roba ma C'è la prima Oh Dio, c'è Plague Inc C'è? Io Frost, vengo lì C'è Plug Inc, Evolved è su PS4, ce l'avevo sul telefono Ah Plague, quello dove devi fare il virus, ho capito adesso Io, io non parlo, Frost, fai rivedere il cofanetto un attimo per vedere una cosa Sì, è M, sì Robo, è quel cofanetto Autografato da Phanapton Ah, se lo faccio autografare da Phanapton Io credo che No, 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 io rossicherò troppo Io rossico, io ti giuro rossico Così tanto da mangiarmi le mani Cioè, guardalo, guardalo Il cofanetto è progresso da sedia a so, tra poco Tant'è bella la musica di Minchia 65% di copia, che due marroni Frost, io Far Cry ce l'ho Io ti speak Dai, voglio più anni, ma vivi Reign, porca p***a Devo uscire il mese prossimo, grazie Amore, quando è che escono i nuovi episodi di Stranger Things? E ce ne vuole ancora Che palle Cioè, non vedrò mai più, tipo, cose che non vedrò mai più La fine di Berserk No, Stranger Things lo vedrò Poi alla fine di Berserk Eh, ma io devo andare a fare l'attore Stranger Things, cioè, mi devono ancora chiamare Eh, lo so, lo so, lo so Minchia sei uguale, p***a merda Sei la controfigura, tu Sono la controfigura, vanno... Stiamo conducendo in manutenzione in tempo reale di Overwatch La durata prevista di qualche minuto Durante questo lasso di tempo Potreste dover riavviare il vostro cliente di gioco Tipo, potrete scorreggiare, mangiarvi una mela, gattarvi il culo Allora, compro Far Cry 5, è molto figo come gioco Come non puoi invitarmi? A cosa non puoi invitarmi? Ma perché non ti voglio invitarmi? S**t Ti dico solo, ti dico solo che Kaza, quello che abbiamo in party Tu c'hai fortuna perché è uno dei Genji più forti d'Italia Sperando che non sia un Genji del I need healing I need healing No, no, no I need healing No, no, no McCree? McCree, sì Il nostro amico è fatto 100 con McCree Mille Ma noi abbiamo la diva più forte d'Italia 100, 100, 100 Ah, certo, certo E' più forte Va bene, facciamo 100, che forte Perché non vai più sui V con Mitch? No, no, ci vado sui V con Mitch Abbiamo fatto la live l'altro giorno Ci vado su? I V, Infinity Warfare Frost, ma le hai finite e giocerei l'esponsione di Wolfe e Stein Ti devo dire la verità L'ultima, quella del soldato Non l'ho finita perché mi stavo annoiando E se un gioco mi fa annoiare Sono cazzi amari Soprattutto se è Wolfe e Stein Ora, lei gioca ora in questo momento? Ciao, scusate, Oro Oddio, che bello nuovo screen di Marcia Felice di averla trovata 87% di copia Mmm, tasty Oh, guarda, c'è un casa selvatico Mmm, tasty C'è, aspetta, c'è un casa selvatico Casa Casa Non faccio miracoli Non sempre almeno Oddio, santo Quanto la odio quando fa così Aspetta, fammi Razer, please Ma lo sai No, no Casa Casa, lo sai che Brothers Deve fare un film su Overwatch Su serio? Su serio, sì C'era scritto su Lega Nerd oggi In pratica L'altra volta avevano sponsorizzato Che devono fare Metal Gear The Phantom Pin Invece adesso non lo fai Overwatch Io ho paura, seriamente Overwatch, sì Brandi trailer Ehm, legit Sombra 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 online Puttana Eva di quel dio vacca Ma perché non mi fa il 96% di copia? Cosa che dice, cosa che dice Sombra? Asgabalaskasdu, Cesslie Come Robbo poi lo dice, ripeto Voi dice, boop Boop No, ma deve farlo una Deve farlo una Ehm, cosa che dice E tipo Che gusto c'è No, no Non ricordo Che gusto Ah sì, dice Che gusto c'è a seguire le regole Ah sì Che palle Che palle Palle Che palle Luna Ricordati di saltare Cosa? Oh Overwatch No, adesso non riesco a saltare Dai, che palle Che palle Devi saltare E devi saltare con le cicche e palle Lo sai Sennò non viene bene C'è solo un glitch nel sistema Però non mi ricordo Dove che farà Farà Ma io devo capire Perché su Instagram Abbiamo una pagina Che si chiama Ria l'orgasm Sono vestiti No, sono vestiti Oh Dio Io avrei qualche dubbio Al riguardo Anch'io Sono vestiti A tutti A tutti A tutti Gli operatori Di A tutti A tutti Mi sono Persona Ma chi è che mi sta a scrivere Devo andare a bestemme Si dice Medico Aspetta Sono mio Ah sì Aspetta 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 Ah sì Mamma mia Che scursus Attenzione Cazzo però In vita Mi porco diaz Io odio Moira Anche se è figa Da ossare Cazzo è morto Tutti con le voci belle E io che ho La voce di me Tu hai La voce Di Aspetta Tradito subito Di zegnatta Robo La voce zegnatta Ti prego Devi dire Devi dire Voglio essere una farfalla Voglio essere una farfalla Aspetta Emote Audio Siamo in armonia Con Ah bravo Ci sono gli audio Siamo in armonia Con sto cazzo Mi inviti per favore Cazzo Siamo in armonia Cos'è Ma Cazzo è morto La vita è più Di una serie di zeri e uni Voglio essere una farfalla Oh no Aspetta Dice Ho sognato Di essere una farfalla Eh Robo Robo Sogna di essere un drago Aspetta Aspetta Dov'è Ripa Qua Ripa Dov'è Tracer Oddio Tracer Che ha la voce piccola Che hai da guardare Il mondo ha sempre bisogno di eroi Ma più di uguali No Ma più di uguali Per Tracer ci vuole la voce ancora più piccina Perché è proprio la voce piccina piccina Mi vergognerò di ciò che sto per fare No comunque è difficilissimo da fare Reaper è veramente difficile da fare Che dice il Reaper Il mondo ha sempre bisogno di eroi Eccola che abbiamo finito Marco potevi salvarti dalla figura di merda Quanto vale che ci sei buttato di capocchitto Troppo facile Mi dire chi hai da guardare Difficile che hai da guardare Devi fare la voce di Batman Che hai da guardare Tu potresti fare il dobbio di guardare Alessi perfetto Alessi perfetto? Ho due ore di Mewt Mewt si ti detto Aspetta guarda come te lo faccio Ecco un suo audio No c'è c'è Questa ragazza ha qualche potere magico Ma scusa Robbo Le hai sentite i miei ultimi due doppiaggi di Bandit Sì l'ho sentito Quelli di Sbandit e Smoke Le hai sentite te Robbo Io pensavo per un attimo E partivo a un bestemmione O qualcosa di divertente Invece lo stai facendo serio Quindi mi sono rimasto di merda Cosa per i doppiaggi? Sì Io pensavo un po' Dice qualche cazzata di suo E ma mi frega la batteria Ma come cazzo faccio A bloccare il muro? Reaper Oddio Può fare Lucio Lucio? Chiara che lo fa Lucio? Lucio mi mancava Occiata Cosa che dici Orisa? Orisa vieni qua Origano Come lo chiamo io Origano Le tue pulsazioni aumentano Le tue pulsazioni aumentano Oddio Alla mattina della strada Girare a destra Sì figa Sì può solamente La mia programmazione È un figa di TomTom Orisa Sì esatto Alla rotonda Svolta a destra Però con la voci zegnata tipo Zaria Oddio Zaria Che palla che non posso urlare Forte come una montagna Oddio Dice Dice davvero questa fa E puntare Ok stavo dicendo Ah va bello Fallo così in doppiaggio Eh certo Quell'altro la muore Si trasforma in un ghoul Justice Rain No aspetta In inglese non me la ricordo Brigitte Justice Rain Oh ma Brigitte Bardot Bardot Justice Rain Oddio Brigitte Non so che voce abbia Perché mi fa altamente schifo Non l'ho mai usata Hai ragione Ragazzi ma vi rendete conto Che Reinhardt è Doraemon Oddio Cosa? Oddio Reinhardt è Doraemon Il primo audio Reinhardt è Doraemon Eh anche Pippo Non che Non che Barbossa Di Pirati dei Caraibi Dice assaggia la mia mazza Sul serio Brigitte Assaggia la mia mazza No no aspetta Aspetta La devo sentire Assaggia la mia mazza Eh vabbè ma come lo dice Assaggia la mia mazza Assaggia la mia mazza Oddio C'è qualcosa da riparare Cosa credi di fare? Aspetta un attimo È coso? Lei potrebbe fare il doppiatore di tutto Cioè c'è qualcosa che non va nella sua voce Voglio fare il doppiatore di dire Aspetta un secondo Ma Doomfist è Vin Diesel No no è Vin Diesel Oddio È Vin Diesel Non scherzo Moira È lui Sì sì è Vin Diesel È Vin Diesel È lui È lui È lo stesso doppiatore Basta ascoltare L'audio La mia pazienza È uguale Identico Spiacicato Sì la invito io La invito io La invita Frost Ma che città No non la vedo Ma sei nel menù Robby Cosa? Sei nel menù? Sì Puoi entrare dal party? Scusate un attimo Devo bestemmiare Non mi puoi entrare dal party Aspetta Vuoi fare una roba? Sì Vai su party Vai su Giochiamo insieme E poi fai Crea una nuova sessione Di gioco Invita ai giocatori Host Ma la voce di giustizia è fatta E la voce di Freya Ma no Ma sta dito Freya Che cosa vuole Vogliamo farti Le rai Era anche Aspetta Aspetta Ma ci sono i fissieri Oh 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 Che bella giustizia è fatta Ah sì Sì Scusa Cos'è Rialto ragazzi? Cosa? Cos'è Rialto? No Sapete chi è La doppiatrice di Ana La doppiatrice di Ana È La voce narrante Di God of War Del primo Però con la voce un po' più Più bassa È lei Scusa Oddio Oddio È lei È lei Quella è Kratos si lanciò dal monte Più alto della Grecia È lei È lei È fantattica quando ci Ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Sono una vecchietta di merda Che cazzo stai dicendo Willis Ammirateli Hanno abbassato i prezzi Eh sì Sti cazzi Mille I prezzi Sono sempre quelli Rattopà Ah no Siamo all'attora Vabbè posso anche usare i miei mille Quanto? 1200 per comprare una skin Perché tanto la risuola Ma non la proverò mai Ma non hanno aumentati Invece i prezzi Non so se usare Farah di ghiaccio O posseduta Di che? Di farah? Posseduta Posseduta Che minchia Ne è un bordello di farah Anche questo che è tipo il mecha Bellissimo Raptor Perché non riesce a entrare nella partita? Tipo È un minuto e 38 Che cerca di entrare No no Costa Tranquillo Scherzi Ho sbagliato io Non hai sbagliato tu Ma perché non entra? Impossibile mentre sei in una formazione Ti stai unendo a una partita Mannaglia la puttana di salto Ah il ponte di Rialto Siamo a Venezia Ti gasciuga il canale di Okan Eccola Guarda la luna Guarda la luna No 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 Sapevo io Cosa? Prendi Insomma Mi hanno preso tutto Eh sì Alessio Io accademi a fino a sabato mattina Quindi torno sabato sera Andiamo direttamente in live Questa settimana mi prosciugano No aspetta Sabato forse non vado Però sabato mattina devo Devo doppiare Quindi No Ci vediamo Ci becchiamo direttamente sabato Perché domani sto Dalle otto alle otto Al lavoro Aia 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 In accademia lavori? Eh sì vabbè noi facciamo solo praticamente pratica E' un po' come lavorare Ah ok ok figata Quindi recitazione manuale capito Eh io studio cinema Però nell'ambito tecnico Ah Quindi video editing Audio mixaggio Fotografia Tecnica di ripresa Quanto mi sta facendo male il cuore in questo momento Vabbè Cazza ma che minchia stai facendo Eh i dati I dati Voglio quella skin Minchia come si ti becca veloce su sto gioco Guarda Eh 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 Ti becca sto cazzo Guarda la luna che salta Guarda come si abbinano bene la sombra La sombra e la fara Vero? Vado cazzo se va raga Oddio Oddio Vabbè se l'avete giocato va Cazzo si chiama Distorsione Ma cazzo Che cosa era? Io non ho avuto la scatter Sì Io non potrei mettere in base Via via Dove è Andu? Oddio Com'è che si faceva? Non ho avuto la scatter Oddio Che è lo scatter? Allora Quel cazzo di Andu Prima va alla scatter Cioè quella freccia che ti avviterà Ah adesso c'è la mitraglietta Sì Ah con L2 si salta È vero Checchino Guido Sopra Dietro di noi Cazzo Di sicurezzo Presa Presa Bella tua Bella cazzo Sei morto Oddio Bella bella Grazie mille Io sono sopra cazzo Che lo copra Oh cazzo cazzo Sopra di noi Sopra di noi Dietro 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 cazzo Aspetta che lo faccio Lo faccio Lo seguo Sono dentro con fare che sto combattendo Dintro gli edifici Ci rendiamo conto Hanno cambiato il lit del razzo Si vede tantissimo E madonna Eh madonna Di già Io sono morta Sono morta Sono morta Colpito il soldato Colpito il soldato Che è morto Morto Oh no 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 Sopra mi ha tappato Sopra mi ha tappato Sono morto No 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 Stai un colun del culo Vado Oh ho eliminato qualcuno Ma che cazzo si vedra Arrivò Cacacazzo di sicurezzo Esatto Cacacazza di sicurezzo No Ragazzi sono dentro al palazzo Sono dentro al palazzo Sono morto Mamma mia come non so giocarci a sto gioco Ressurrezione Oh the fuck Ragazzi non posso rincare nessuno Mannazza Sombra Preso Non ti hai beccato malissimo Sopra di noi Sopra di noi Minchia ho preso in pieno soldato Ok Morto Oddio C'ho 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 Brigitte davanti Quella puttana Presa Morta Oh Mio cugino si chiama Renato Mio cugino si chiama Renato Vai Luna Vai Luna Morto Bella Sopra di noi Sopra di noi Ma l'ha ucciso prima Buongiorno madame Occhio che il soldato si sta curando No 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 Eh merda Mi ha fatto Alcuna matata Ciao Astro Quanto Ho la ultimate Ma guarda che figa Dove sei Oddio Ce l'ha anche C'è una sombra nemica C'è una sombra nemica Vabbè regà Io credo di andare Buonanotte Buonanotte Robertina Madonna che missile preciso Che gli ho tirato Oddio ho preso anche cosa Mori Dole Arrivando Wow 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 Uuuu Grandiamo C'è Brigitta dentro il culo C'è dentro Allora Ok Quanto è lunga sta ma Farga Non è male Fa al contrario In pratica Da quello Che da Oh dietro dietro Brigitta 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 Luna c'è tua zia C'è tua zia Oh oh Mio cugino si chiama Renato Sono vi No non sono più vivo Che culo Mi ha preso con un colpo di freccia Ma vado dove Che merda No C'è il vino un cazzo Sono morta Mio cugino si chiama Renato Si è l'abilità No pezzo di merda Oh ma non ci muoiono Regas Ah sta curando Sta curando Arrivo Arrivando Arrivo Ah Brigitta è di merda Grande mi Ho salvato il culo Oddio che bel missile ho tirato Ah un altro bello Oddio sono sola Oh merci di merda Sono caduto Sono caduto Sombra presa Oh morta Bravissima Di fianco raga Di fianco raga Stanno flaccando Siano merci Mi hanno ghiacciato Mei di merda Mi ha preso Non so come Però mi ha preso Come sono morta Come sono morta Mei di merda Mi hanno ghiacciato Ok vabbè ce li ho tutti addosso Mi hanno ghiacciato Ok sta giusto che direte avanzata Mostra P Ma vaffanculo 47 No hanno muoia Ma vuole morire? Cioè un giorno No mazzo Porca Arriva lui Arriva No mio cuccius che ha barenato Merda Nella merda E vabbè Mano flancata Sì sì Sanno tutti lì ragazzi Dai 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 con la ultimate Gliela lancia tutta qua Madonna come gliela sparano il culo Dai Ma un colpo dell'ho tirato Non mi voglio che me l'ho preso Ma c'è morito con lui Dai Ma ha ucciso mei Non so come Però ok Sto spottando il cazzo Ho dato senza mani Eh vabbè E' facile tenere premuto l'R2 Vero stronzo Brava sombra Non ne ho tanti Non ne ho tanti Merci di merda Fanculo 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 Presa me in pieno Vaffanculo grassona di merda Sombra 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 Occhio cazzino Volevi fare qualcosa Brigitta Ops Ma Dio Ma ce l'ha commesso Figlio di Troia No perché ti ha piaci giustizia Stronzo Bella No 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 Veloce non cazzo No no Sicura sto bastardo Sicura Grazie Eccola Presa in pieno Presa in pieno No 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 hanno preso Diva No hanno preso Diva Metteli perché è immortale Dopo che gli faccio rivolgere il caccio in faccio Soldato mi ha preso Chi o me lì Sto stuprando il carico Che cazzo Che cazzo di Rainbow Oh schizzo Ho la ultimate Ma dai Morto Sì 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 vai soldato E domani muori Luna c'è un Diva contro Muori 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 Diva Muori puttana Uh 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 Andata finita Ciao Uh Bella Bella Ragazzi buono Hola Uh Cazzo piano Che cosa sta succedendo Su T.S Ehi Gigi Ehi Strano 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 Madonna Ueh vacca miseria BAM Oddio Ma solo io da un fisto non lo so usare ma alcuni mi pagano Sì penso c'era l'unico che eri a scadutare C'è veramente Ero deciso di farmi l'alba da rosuobi Poi salvo di sonda Ovviamente Eh era un po' ma è un risotto Mi sono abbrato la scuola Ah aspetta no devo buttarvi un attimo Aspetta è quello che penso Carciere Ah quindi Ah quindi Ah quindi Preparate le difesa Ok Selezioni Wow Wow Bella Nick ciao Guarda Pikachu Guarda Pikachu guarda Non ho Pikachu Ciao Andai a morire E' tanto per far capire che sono un genio I need you, I need you I need you Ma io veramente Bloc qua Ma che cazzo Io vado avanti ti beccando Adesso è qui A me mancano gli assassini Erano carine Erano carine Ma perchè ha la faccia da vecchia Mercy Erano carine Duna Merci Mistika Stuprarla Ah ha Ayy guarda che vengono dietro comunque i nico da dove? oh madonna oh da sinistra o da bocca stavo divertendo sul carico intanto che io so di fianco dammi un attimo oh oh roadhog madonna sì ma quanto danno mi ha buttato in acqua no io non mi posso far ammazzare da pasquale messere no pasquale messere no no ti prego mi vendicherò adesso siamo tutti soldati via che ro la vita figlio di puttana no 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 nell'acqua no mi hai mancato ah mancata no salo salo guarda Kenji guarda Kenji madonna mio figlio si chiama Renato ma mamma quanto sei figlio di puttana così scusa perché? stavo facendo destra e sinistra no? sì sì eh vabbè ma guarda quanto cazzo toglie questa troia spagnola eh vabbè è messicana si scusa la messicana che tal? si è del cazzo vediamo che ti dica ma si dai rompiamo i coglioni da lontano ma vabbè io non ho parole neanche io uso la ultimate e mi fanno fuori non ho parole non ho fatto neanche il team che bellezza oh dio sì vabbè va bene dai ma perché hanno aumentato così hanno aumentato così tanto il tempo di U ti aiuto sono viva solo io io vorrei mettere qualcuno per gioco un po' d'aiuto esatto Elios che è abbandonato? no non è cresciato no vabbè vai tranquillo no vabbè sta puttana nuova mamma mia Brigitte bardo bardo non ti libererete di me facilmente eh beh oddio perfetto mi non ti hai detto uscire aiutare dai che schifo che sei sombra no ma cazzo mia che rogo no ho sbagliato mi sono fatto saltare in aria troppo male no 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 Pasquale Messina non c'è il mercante del pesce che mi tira dietro le cose di io buonasera signore ora o mai più ora o mai più sta laggando tantissimo scusi signora non lo faccio più lusso di merda nero di merda madonna brasiliano di merda fermatemi te l'avete già sentita ho perso l'L2 l'R2 no l'L2 dove cazzo è finita qua no la l'Occhio del drago va d'Ace of the tiger guarda mi ha rossa la riga minchia oh ma quanti c4 ci vogliano per far saltare in aria sun è una puttana eva guarda brigitte di merda no eh vabbè ma è troppo forte brigitte cazzo mo prendo ok ok va bene va bene certo dirò in culo ora ero in arrivo no no ma i raccontami sono sulle palle che hai fatto l'aglius potrebbe andare meglio comunque non capisco anche per qualsiasi come si è arrivato visto che ci sono i tornelli ahahah ombra e non uso dove ho visto direi che aiuto brigitte cazzo quello che appena è entrato ah vabbè spagando la sluice dio bello adesso l'hai pronunciato bene e vabbè ma porca puttana ragazzi ma io ho fatto saltare addosso il le granate non esplosano vabbè non ho parole forse ma serve il season pass pure su overwash no 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 si 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 forse voleva dire il pass il plus della play no no il season diceva no perché no vabbè l'ho usato solo su dio e lei oh qua no allora i ragazzi io l'ho sparato in bocca perché non muore mamma mia che palle devo mettere a posto sta connessione come tu coglioni ma che com'è eh cazzo l'ho visto eh io questo gioco non voglio paragonarlo a qualcos'altro no stammi lontano stammi lontano eh vola zoccola vola donna guarda come vola non si fa una sega appagando la flutte dai tommetra in calore vabbè io non ho parole mi ha mandato a fanculo la ultimate mi ha mandato a cagare la ultimate io non ho parole io ho avuto paura ce la puoi fare cazzo arrivo arrivo mi faccio saltare in aria lì da voi oddio dove vai no sei un dietro dove sei no 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 mori no eh che cazzo mori va la mori cazzo nero che balla madonna santa qua 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 guardali 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 vai cazzo vai cazzo guarda ma che cazzo hai i c4 dai dai ma i c4 ti fanno saltare vai cosi vai dai 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 che ho preso road dog dai dai lucio di merda che bellezza che bellezza è vai cosi mamma mia che adesso gli abbiamo spannato il culo però cazzo da me cazzo da me eh si l'ho sbagliato non volevo fare questo ho capito la mia volontà scoppietta nero di merlo va bene cosi eri figo lo stesso era il momento giusto no 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 brighitta di merda oddio l'ho fatta esplodere malissimo occhio ro dog occhio ro dog occhio ro dog bella bella brava una brava perchè? perchè il personaggio blu? attenti c'era vai cosi oddio dove sono finito addoni di dieci addoni di dieci uno di vita oddio grazie no mio cuccius che avrà nato no brighitta 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 cazzo non capisco un cazzo però eh vabbè si però no ok 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 ahahah ma ci stavo tipo ma cosa mi faccio qui io ogni tanto vedo il mio ping che sale come avevo programmato no ma pure il mio ping stasera sta proprio a fare blu? si si il mio fa da 43 a 111 100 vabbè ho fatto una cazzata ma ci muore sto ciccione di merda BOOM mi sono preoccupata per te ci voleva proprio mi farò sperimenti di morire e di le tue parole messe in croce dai che mancano 37 ombre arrivo arrivo mi faccio esplodere mi faccio esplodere mi faccio esplodere ma in africa non viene in piedi da fare i gatti brodo il contabile è morto cos'è che ha detto? il contabile il contabile come pass uuh uuuh ho ucciso l'ultimo ho ucciso l'ultimo forse ma non mi farà vedere di sicuro la mia no farà vedere Cazza ah no? non vedi minchia io ho tirato una ciambella nel culo guarda che roba arriva l'estate stronzi Vabbè, dai, questa era bella come azione, comunque Vai a bloccare Boom Abbiamo uno di quei healer che veramente mi sta facendo orgasmare Sì, giuro Eh, perché noi non abbiamo mai healer Non mi hanno mai curato Non curavano nessuno Ok, ok, ok 22, 11 Minca che ratta di merda È morto di nuovo, luna, luna 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 Quello è il mio personaggio preferito su Overwatch, Jankerat, quello che uso io Questo Comunque hanno cambiato il mondo di dire aiutai Ora dicono aiutai, io ho una cosa al genere Comunque era aiutai Ma te cosa c'hai, c'hai la fibra telecom? Oli Ho la team, sì 200 mega credo Figa Sì, ma me ne arriva la metà Beh Con il dito nel culo di ero Quello che ha fatto è più scendere i titani che è stato veramente bravo Le piscine sono ancora piene Ri, domani Pensi di andare in live da qualcuno Mi sorella mi triggera Non so, se fa live Robby, se vuole una mano, io ci sono Quando? Quando fai live, mi sento Sabato credo di farmi un live Sabato sera Però sabato mattina vorrei far uscire il video Se no faccio così, sabato faccio uscire il video e domenica faccio la live Il nostro che ricevi? Ah, ok Ciao, Costa Sì, guarda, guarda Come fa tutto il serio Beh che ti sto c4, strozo Che grande inizio Che grande inizio Natto Ovvio, grazie Cazza, ho detto una mano? Ma non fa, possibilmente Colpito No, 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 bastardo L'ho fatta apposta L'ho fatta apposta Bastardo Voleva che lo caricassi Pasquale di merda Oddio, ho fatto saltare la torre Oh risa di merda, esplodi Origano Origano, esplodi Rotok, rotok Vabbè, io non ci credo Io non ci credo Ok Aspetta che provo a andare sopra In qualche cazzo di modo Ah, di qua Oh cazzo Sbagliato No, l'ho preso in pieno Oh mio Dio Gli ho tirato una spallata bruttissima Cazza L'attacco di Cosa cazzo sto guardando? Perché c'è un Nani incazzatissimo? Eh, stimolo è fissile Non è morto Ma l'attacco di Reinhardt com'è? E' a onda d'urto Gli ultramate Figlio di puttana Madonna Non sa giocare con questo Pasquale Ti butta solo di sotto Mi sembra di giocare a For Honor Madonna Viene No, no, no No, sto Pasquale ha rotto il cazzo Comunque Il bello è che Moira Moira mi ha ucciso Mentre dicevo la morte Non può fermare gli eroi Ma Scusa Sì, vabbè Mamma mia Pasquale Ma che cazzo c'ha la 500 Mega Non gli entra un colpo Dio buono Oh no, no, no Moira Facciamo così, va Ma siamo un trailer Ah no Aspetta, cambio Cambio Prendo qualcun altro No, ma sto Non mi ha preso di nuovo Basta Ma sai fare qualcos'altro? No, eh Mamma mia, sto Pasquale di merda Mamma mia Che nervoso C'è, non è possibile però Ciao Ciao A posto No vita Ci ho provato È leggermente morto Ciao May Muori, troia Oh, ma è morto davanti Ciao Ciao Trillex Sì Bella, bella uccisione Cazzo No, no, no Merda C'è il tipo Muori Muori Non è No, no Regà Regà Non muore Oh, è morto Godo Pasquale di merda No, c'è merda Meno No, mi ha massato No È morto Che è successo? Mi ha ucciso Laser Sallo Ancora, madonna Ma che palle Ma non sa fare altro Sto pasquale Ma questa che ci fa qui Porche miseria Ragaz C'è l'una Ma non lo so Però non lo so Se l'ho già incontrato Squali di merda Oh, godo Oh, oh Il cazzo Come mi sei ingrossato Testa di merda Dov'è? Dov'è? No, vabbè Io non ci credo Non ho ucciso uno Sì, vabbè Che palle, madonna Mega 3 mix Aiuto La vita Dov'è la vita? Dov'è la vita? Io Allora O sei di vita C'è una palla C'è una palla C'è una palla Dai, o sei di vita O zero Meglio è morta Come l'ho ucciso E' abbruttito No, ok Cosa è morto? No No, 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 no Non ci provare Ciccione di merda C'è vabbè C'è due doppiette in fronte Non crepa Anche sto gioco Minchia Rainbow Firegote proprio Ma lì era bello Premi il triangolo Eh, vabbè Basta, basta Crepaci, bastardo Bella Ricompensa forse Ottimo Godo sacchi di merda Eh, sì Mamma mia Mamma mia Questo Eh, guarda Guarda che mi butta di sotto Ma va via Vaffanculo No, non si vede Che giochi con mouse e tastiera No, no Tranquillo No, no Vabbè, dai ragazzi Io qua stacco Alive Grazie mille per tutti Quelli che ci sono stati Ci vediamo alla prossima Buonanotte a tutti